buongiorno a tutti benvenuti al webinar artrite reumatoidi in epoca covid 19 quando abbiamo iniziato a organizzarlo non immaginavamo di essere così in epoca covid 19 diciamo che ci siamo resi conto in questo in queste ultime settimane che intanto la seconda ondata è arrivata e che intanto nonostante i proclami che tutti abbiamo fatto al termine della prima ondata ovvero che non si sarebbe ripetuta la situazione di marzo quando abbiamo un po' dimenticato non parlo dei clinici specificamente destinate alle singole patologie ma in generale come sistema abbiamo un po' dimenticato gli ammalati cronici in realtà sta di nuovo accadendo che riusciamo a gestire con fatica la cronicità ma riusciamo a gestire con fatica anche l'urgenza perché anche le persone che si ammalano che scoprono di avere un tumore in questo periodo o che necessitano di interventi chirurgici per un tumore in questo periodo fanno fatica a vedersi curati in maniera adeguata e con i tempi necessari allora intanto ringrazio tutti i partecipanti Alberto Cauli professore ordinario di reumatologia università di Cagliari responsabile centro Gisea di Cagliari Antonella Celano presidente associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare Ada Corrado professoressa associata di reumatologia università di Foggia Enrico Fusaro direttore reumatologia città della salute e la scienza di Torino Donna Maria Iagnocco professoressa ordinaria di reumatologia università di Torino presidente eletto EULAR Fiorenzo Iannone professore ordinario di reumatologia università di Bari coordinatore del comitato scientifico Gisea Leonardo Punzi responsabile retta reumatologica della regione del Veneto Maurizio Rossini professore ordinario di reumatologia direttore della scuola di specializzazione di reumatologia università di Verona Luigi Sinigaglia che arriverà alle 12.45 presidente SIR Silvia Tonolo presidente Anmar Giuseppe Turchetti professore di economia gestione delle imprese scuola superiore Sant'Anna modereranno con me Paolo Guzzonato della direzione scientifica di motore sanità buongiorno Paolo Daniele Amoruso buongiorno Daniele oramai organico di motore sanità giornalista Gazzetta il Mezzogiorno e Telenorba da Bari Daniela Boresi buongiorno Daniela di salute del Veneto e poi farà i suoi saluti e ci darà la situazione del Veneto Manuela Lanzarino assessora della sanità servizi sociali e programmazione socio sanitaria della regione del Veneto. Allora molti personaggi eh importanti tra noi direi un parterre molto molto alto il nostro documento di sintesi eh lo consegniamo ai parlamentari della commissione sanità sia della camera sia del senato proprio per consentir loro di eh capire a che punto siamo nella gestione della reumatologia in questa seconda ondata di pandemia covid-19 per poter gestire al meglio i pazienti cronici e non ritrovarci tutti con un buco nero di tre mesi sei mesi quanto durerà questo difficile periodo. Paolo Guzzonato a te per l'introduzione di scenario. Sì grazie Giulia saluto tutti gli amici presenti amici con cui abbiamo anche condiviso un percorso fatto in diverse regioni il Piemonte la Lombardia la Puglia il Veneto eh per appunto andare a valutare come facendo focus sull'artrite reumatoide la patologia più importante invalidante tra le malattie reumatiche come è la situazione ehm organizzativa eh attraverso le reti. Queste sono regioni che hanno strutturato eh delle reti eh la Lombardia probabilmente non ancora ma Piemonte Puglia e Veneto sono un po' le più rappresentative da questo punto di vista. Eh quindi io farò come al solito una breve analisi di impatto dell'artrite reumatoide nelle regioni mh e l'impatto epidemiologico sapete che è importante tra le malattie croniche tanto che appunto questa è una patologia che rientra nel piano nazionale delle cronicità e ha una morbidità che è inferiore solo alle malattie cardiovascolari secondo i dati dell'OMS e genera il 27 per cento delle pensioni di invalidità. Eh i malati in Italia sono circa 300.000 eh purtroppo coinvolge persone giovani tra i 40 e i 60 anni riducendo l'aspettativa di vita da 3 a 10 anni eh sempre considerando però che la qualità di vita grazie alle recenti terapie è nettamente migliorata. I costi sono costi eh per quanto questo dato risalga a qualche anno fa probabilmente si sono ridotti perché lì c'era un'incidenza dei farmaci biologici eh elevata è di 13.000 eh oltre 13.000 euro a paziente e comunque con un costo di circa 3 miliardi e 3 all'anno eh per per la sanità. Eh negli ultimi 15 anni appunto le innovazioni farmacologiche hanno fatto in modo di cambiare la vita delle persone malate ma questo richiede anche un rinnovamento continuo eh dal punto di vista del modello organizzativo e modello organizzativo che si deve sempre più integrare tra ospedale e territorio. Covid ci ha insegnato molto da questo punto di vista. Andiamo pure avanti. Eh questa è una malattia fortemente impattante sulla vita delle persone. Eh quest'indagine della reumatology patient foundation riferisce che il 68% dei malati non ha neanche un giorno al mese senza dolore e tre quarti di loro purtroppo eh questo dolore tipico della rigidità articolare mattutina continua solo il 25% migliora nelle ore successive al risveglio. E poi se è vero che il lavoro è un pilastro del benessere importante per le persone malate i pazienti con artrite reumatoide lavorano il 53% in meno e fino a qualche anno fa prima del prima dell'ingresso di queste nuove terapie molti di loro quasi la metà perdevano il lavoro nei primi dieci anni della diagnosi. I costi indiretti sono molto impattanti e quindi c'è una perdita di produttività importante. Vengono calcolate in medio numero di giornate di assenza di 65 all'anno e il sistema sanitario nazionale sopporta il 30% del costo della malattia ma il 70% comunque resta a carico della collettività. Quindi non avere un rapido accesso alla diagnosi, non curare e non aderire è un costo, è uno spreco importante. Io adesso vai pure avanti vi farei vedere molto velocemente quello che sono stati i tantissimi e importanti output dei percorsi regionali, dividendoli in organizzazione e parte terapia. L'organizzazione ci dice questo, serve una cabina di regia anche all'interno delle reti, bisogna implementare un registro reumatologico, si è parlato di diagnosi precoce, di modello assistenziale che deve cambiare, di un rapporto con la medicina territoriale che deve essere completamente diverso, di un'integrazione a una multidisciplinarità tra specialisti, si è parlato di telemedicina, si è parlato di PDTA o meglio di PDTA light che forse sarebbero un po' più rapidi da realizzare, c'è un esempio a Verona di applicazione di un PDTA provinciale, c'è importante la riduzione delle liste d'attesa che si collega strettamente al numero corretto che deve esserci tra gli specialisti che lavorano tra ospedale e territorio, di posti letto dedicati che purtroppo spesso Covid ha sottratto e speriamo che non succeda anche ora perché i pazienti complessi da questo punto di vista hanno comunque bisogno di posti letto e poi della necessità di condividere maggiormente i dati. Andiamo pure avanti, poi si è parlato di innovazione terapeutica e quindi si è parlato di terapie orali che sono state introdotte qualche anno fa, si è parlato di biosimilari che sono un motore importantissimo di sostenibilità, si è parlato di aderenza alla terapia, si è parlato di misure di valore, si è parlato di come implementare l'aderenza, si è parlato di come formare la medicina di famiglia e di come implementare la collaborazione tra specialisti visto che questi sono pazienti che hanno patologie concomitanti e fra l'altro purtroppo anche un rischio cardiovascolare molto aumentato. Poi si è parlato di piani terapeutici che tutti qui in ogni intervento regionale si è detto che questi sono una complicazione burocratica che in qualche maniera bisognerebbe risolvere. Adesso vai pure avanti, io tra tutti questi spunti direi che ho estrapolato alcune cose su cui discutere che riguardano l'innovazione organizzativa e l'innovazione terapeutica. Le pongo come domande e vi chiedo se riusciamo a stare su questo per rispondere proprio per poi contribuire a dare continuità al documento che vorremmo presentare alle istituzioni. Urgenza e valore di una rete di patologia per le malattie reumatiche. Poi le liste d'attesa, come migliorare la situazione e fare in modo che anche in pandemia si mantenga la presa in carico. L'importanza della multidisciplinarietà, l'importanza dei PDTA condivisi, PDTA o PDTA light. PDTA light per intendersi, non lo so, focalizzandosi su un aspetto di gestione, per esempio l'early arthritis, creare un PDTA per dare una diagnosi rapida a questi pazienti, piuttosto che non costruire un PDTA che parli dell'artrite reumatoide. La telemedicina, quando e perché? Come implementare la diagnosi precoce e l'accesso ai percorsi di cura? Attualmente vi è un numero corretto tra specialisti, tra ospedale e territorio? Le terapie disponibili vengono utilizzate su tutti i pazienti e cosa poter fare per implementare questo aspetto dal punto di vista organizzativo? Andiamo avanti? E ancora l'innovazione terapeutica, il 40% dei 300.000 pazienti non segue, e questi sono dati ufficiali, non ha aderenza alla terapia, ma l'aderenza della terapia è fondamentale in una patologia con decorso così invalidante. Cosa fare per implementarla? Cosa fare per fare un buon monitoraggio dell'aderenza? Quale riorganizzazione è necessaria nel Covid? Purtroppo non è più un dopo Covid. I biosimilari, che sono una grande opportunità di accesso più ampio alle cure, devono essere anche un motore per sostenere le nuove molecole e il posizionamento di queste nuove molecole forse è necessario. Ci sono già delle esperienze al di là di quello che dicono le linee guida, di applicazione pratica di questo. Può in questo contesto il medico di medicina generale avere un ruolo diverso come sta accadendo nella fibrillazione atriale non valvolare, nel diabete dove ha accesso ai piani terapeutici e poi i piani terapeutici rappresentano un inutile aggravio burocratico come superare questo problema. Io lascerei queste domande a voi per la discussione. Grazie mille Paolo, grazie. Mi sembra un'introduzione di scenario estremamente appropriata. Allora, io chiederei, prima di dare la parola a Giuseppe Turchetti per la sua introduzione sulla sostenibilità economica del sistema nell'ambito della reumatologia, chiederei a Daniele, Daniele, Daniele Boresi al Veneto, Daniele Boresi alla Puglia di manifestarsi. Metti il microfono, Daniele. Buongiorno, intanto mi manifesto. Mi sentite? Ti sentiamo benissimo. Perfetto, mi manifesto io anche perché ho una giornata un po' concitata, il Veneto è in fascia gialla ma stanno crescendo un po' i contagi quindi siamo un po' in agitazione. Le domande di Paolo Guzzonato sono tante, tutte pertinentissime e tutte meritano un approfondimento. Quello che volevo e che a me interessa molto in questo momento e di cui mi piacerebbe sapere soprattutto dal professor Rossini, dal professor Punzi, è in un momento in cui si chiede alla struttura sanitaria di fare un attimo un passo indietro e di fermare tutte quelle che sono le attività non urgenti perché il Covid sta purtroppo assorbendo molte risorse, molte più forse di quelle che erano previste. Ecco, come pensano di organizzarsi? Perché questa credo sia la domanda centrale visto che stiamo parlando di artrite reumatoide in epoca post-Covid che poi post-Covid, come dicevi giustamente Giulia, proprio non è. Ed è anche una cosa di cui i cittadini hanno molta paura perché se guardiamo i social questa mattina la paura più grande è come ci curano, ci continuano a curare, ci abbandonano, è vero che non potremo più, è vero che non potremo più. Siccome non è vero poi tutto questo che c'è un abbandono così totale, ma c'è stata una, diciamo uno scaglionamento e una presa in carico in modo diverso, vorrei sentire dai due professori come vivono questa realtà, anche se vedo la dottoressa Tonolo che fa no con la testa e forse un po' di ragione ce l'ha. E la ce l'ha, fa no con la testa e mi sento di dire, visto che sono presidente di un'associazione anch'io, che anche io faccio no con la testa, Daniele. Lo faccio anch'io perché ci sono dentro anch'io, in un altro modo. Ma comprendo le fatiche che stanno facendo perché in effetti quando la coperta ha una dimensione, la tiri a destra, la tiri a sinistra, poi sempre quella la coperta è. Beh certo, se posso parlare io, certo che effettivamente il momento è difficile, però anche qui quella famosa l'organizzazione territoriale conta molto, la solidità e l'effettivo espletamento dell'organizzazione e questo secondo me riduce questa pressione che c'è sulle strutture pubbliche. Ricordiamo che nel Veneto ci sono 43 ambulatori di reumatologia istituzionali e alcuni sono anche nei distretti, per cui penso che sia più facile raggiungere quell'ambulatorio che raggiungere l'ambulatorio del grosso ospedale che magari in quel momento è diventato ospedale Covid e i reumatologi, sappiamo bene, in alcuni ospedali sono stati messi a lavorare su pazienti Covid. Per cui secondo me è proprio questo che conta l'organizzazione territoriale per cercare di ridurre queste situazioni. Naturalmente la telemedicina è un mezzo molto utile, questo è stato ampiamente impiegato nel periodo precedente, nella prima ondata e anche qui dopo devo dire che almeno nelle ULS di cui ho conoscenza io, ha sopperito in parte ad alcuni aspetti del problema. Poi ricordiamo che ci sono tante cose per esempio di cui non si parla, ecco i farmaci biologici, noi abbiamo avuto difficoltà soprattutto di immettere per la prima volta i pazienti in trattamento con farmaci biologici, perché i pazienti che sono già in cura era più facile seguirli anche con la telemedicina, ma quando bisogna inserire un paziente per la prima volta è molto più complicato. Ricordiamo anche la questione della salazopirina che è sparita e credo che tuttora non sia ripetibile, quindi anche questo è molto grave, insomma quindi sono situazioni... Però, continuo a ripetere, una adeguata organizzazione territoriale riduce di molto tutta la pressione su questo problema. Ecco, un conto è avere 400 di roma dell'oggi e un conto è averne 40 sul territorio. Grazie mille professor Puzzi, allora io darei però adesso, prima di dare la parola al professor Rossini, la parola a Giuseppe Turchetti. Daniele, volevi fare una breve introduzione anche tu, poi diamo la parola al professor Turchetti. Dunque, intanto do anch'io il buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano, a tutti i relatori. A questo punto non farei una vera e propria introduzione perché il dibattito è già avviato, però in effetti siamo in un momento drammatico. L'Italia sta per diventare arancione e poi forse, ahimè, rossa. Il presidente della Federazione delle Ordini dei Medici, Filippo Anelli, ha chiesto un lockdown generale, nazionale. Questa è un'indicazione molto forte, ma che ci pone di fronte a una prospettiva nuova, cioè quella di dover affidare ai medici di medicina generale compiti molto più importanti e un'operatività che fino ad oggi non hanno avuto. E parliamo anche nell'ambito in cui ci muoviamo oggi, quello della reumatologia. Ma per la lotta al Covid, questo significa, attenzione, che non c'è ancora un protocollo di cure, un protocollo condiviso. Mi ascoltate? Sì. Non c'è ancora un protocollo di cure, un protocollo terapeutico, indicazioni chiare che dobbiamo dare ai medici di base. E per quanto, e gli strumenti naturalmente, da dare a loro per poter fare i tamponi rapidi, e per poter seguire gli ammalati cronici che non avranno un facile accesso agli emulatori ospedalieri, e bisogna superire immediatamente a questa carenza di cure. Forse è il momento di dare ai medici di base, intanto gli strumenti di formazione per poter gestire ammalati speciali, come le persone ammalate di artrite reumatoide, ma anche indicazioni chiare. E poi c'è la questione dell'utilizzo dei farmaci anti-infiammatori impiegati per le malattie autoimmuni, che possono essere impiegati anche favorevolmente per gestire il Covid. Ma ora riporterei, Guzzonato ha dato delle indicazioni chiare, dobbiamo arrivare a una comune elaborazione di proposte, quindi parlare di reti, dell'implementazione delle reti, della multidisciplinarità, della PDTA, dei PDTA, della telemedicina. Ora non vorrei riassumere quello che ha detto Guzzonato, ma si può partire, forse possiamo immaginare nuove strade, favorendo l'innovazione, e perciò dobbiamo dare la parola al professor Turchetti, come si era stabilito, perché introdurre l'innovazione può dare poi forse quella spinta decisiva, una spinta propulsiva che è necessaria. In questo momento di crisi, per fortuna, il PIL della ricerca è fortemente in crescita, e l'ancora di salvezza per la gestione delle malattie croniche ad alto impatto assistenziale. Perché se solo immaginassimo, come dire, una recessione scientifica, passatemi la metafora, in questa situazione di crisi, parleremmo di un imminente collasso del sistema assistenziale. Al contrario, per fortuna, si può contare su una spinta propulsiva delle terapie innovative, sempre più efficace, in grado di invertire la rotta in una società che invecchia ed esprime i bisogni assistenziali crescenti. Allora, ascoltiamo il professor Turchetti, partendo da un'analisi di farmaco-economia che ci possa indicare i criteri per l'ingresso delle nuove terapie che possono cambiare il panorama. Professor Turchetti. Sì, grazie, grazie dottor Amoruso, buongiorno a tutti. Diceva Giulia questo rapporto fra sanità, innovazione e sostenibilità da un punto di vista anche economico. Questo, come sapete molto bene, è un tema rilevante, un tema che il nostro paese, come i più grandi paesi del mondo occidentale, si trova ad affrontare e i motivi che sono la base, diciamo, della preoccupazione che i governi hanno in merito appunto alla sostenibilità del sistema sono molti questi motivi. Fra questi c'è certamente il tema dell'innovazione che, come sappiamo molto bene, porta con sé moltissimi benefici da un punto di vista diagnostico, da un punto di vista terapeutico, però appunto ha anche un impatto in termini di spesa. Non tanto perché la singola innovazione presa singolarmente vada ad aumentare il costo nella gestione di una patologia, in molti casi non è così, in particolare se si adotta una prospettiva più ampia, andando a valutare non solo i costi relativi alla terapia, ma si va a valutare l'impatto dell'innovazione su altre voci di costo diretto sanitario o dei costi indiretti, come richiamava prima Paolo Guzzonato, ma per il fatto che grazie a queste innovazioni, per fortuna, molte problematiche vengono gestite meglio, la prognosi di molte malattie migliora e migliora significativamente, però appunto ci trasforma tutti inevitabilmente in buona parte dei casi in pazienti cronici, quindi bisognosi di monitoraggio continuo, bisognosi di terapia continua, quindi in aggregato la spesa sanitaria cresce e crescerà. Il problema come in altre occasioni abbiamo detto è se non cresce questo nostro maledettissimo PIL e come non crescerà quest'anno, come non crescerà l'anno prossimo, come negli ultimi dieci anni, dalla crisi del 2008 in poi, in molti anni non è cresciuto, questo è il problema vero, però appunto questo ci porterebbe un po' lontano nel nostro ragionamento. Rimanendo al tema dell'artrite reumatoide, ecco parlando di cronicità, l'artrite reumatoide è una di quelle malattie regine, diciamo, quando si va ad affrontare questo tema, non solo in termini di appunto impatto sulla salute, ma anche in termini di impatto economico, ovviamente, proprio per la complessità di questa malattia, proprio per la diffusione, quindi dal punto di vista epidemiologico di questa malattia e anche del costo appunto della gestione di questa malattia nel corso del tempo. Molte dimensioni del costo, come ricordava Paolo in effetti poco fa, in realtà prende la definizione di costo diretto di tipo non sanitario, quindi non è costo strettamente sanitario, è di costo indiretto, quindi di impatto sull'attività lavorativa, di impatto sulla vita delle famiglie, dei pazienti e molti di questi costi in realtà sono sostenuti, dalle famiglie sono sostenute dai pazienti, sono sostenuti dal sistema economico e non tanto strettamente dal bilancio della sanità all'interno del nostro paese o delle nostre regioni. Però il ragionamento oggi è un po', diciamo, diverso, nel senso, cioè, molto più complesso, perché accanto a queste problematiche che sono lì, persistono e caratterizzano l'artite romatoide, come altre malattie croniche di grande diffusione, penso appunto al diabete, però queste sono, come dire, condizioni che rimangono e dobbiamo gestire. Il problema è che adesso accanto a queste condizioni di base si pone il tema dell'emergenza che stiamo vivendo, quindi il fatto che i nostri servizi sanitari regionali in realtà si trovino a effettuare delle scelte, come succede quando ci sono le emergenze, andando a ridefinire quelle che sono le priorità di intervento e che in primo luogo si vanno a tradurre in termini di indirizzamento delle risorse verso un impiego piuttosto che un altro. E cosa abbiamo assistito in questi ultimi mesi? Abbiamo assistito ad una prima fase della pandemia nella quale, come abbiamo già avuto occasione in altri eventi, di analizzare molti dei pazienti cronici, fra questi pazienti cronici ovviamente i pazienti reumatologici, si sono tenuti lontani un po' da soli dalle strutture sanitarie, un po' sono stati tenuti lontani dalle strutture sanitarie per poter essere gestiti quanto possibile a distanza per evitare di farli arrivare in ospedale andando a incrementare il rischio anche di contagio e come dire, questa prima fase dell'ondata è stata sostanzialmente gestita in questo modo. Poi c'è stata una fase in cui i pazienti sono tornati ovviamente in ospedale e quello che sarà il costo diciamo in termini di salute di questo monitoraggio ridotto della prima fase, lo stanno vedendo i clinici, lo stanno vedendo i pazienti in questo momento e poi abbiamo questa ulteriore fase che ha un'altra caratteristica ancora, è una caratteristica diciamo se possibile certamente anche peggiore della prima perché oltre alla gestione dell'emergenza Covid oggi i pazienti giustamente non si tengono più lontani dalle strutture, oggi i pazienti vanno in ospedale perché si sono resi conto che il rischio della progressione della malattia, il rischio di una gestione non compensata della malattia è maggiore del rischio di poter andare in ospedale a contrarre il virus quindi i pazienti oggi accedono alle strutture, domandano prestazioni e quindi siamo in una situazione se possibile peggiore da un punto di vista del carico di lavoro per le strutture e allora il tema come ricordava il professor Punzi un attimo fa è organizzativo, allora come gestire questa fase diciamo nuova appunto, nuova anche rispetto alla prima ondata, il problema è se appunto i pazienti andando in ospedale per ricovero o per accertamenti diagnostici e per visite di monitoraggio, visite ambulatoriali e non trovano i reparti perché qualcuno aveva già iniziato a ricordare ma penso che emergerà chiaramente questa mattina moltissime delle strutture reumatologiche del nostro paese sono ad oggi convertite in strutture per la gestione del covid, di pazienti covid sia in termini di posti letto sia in temi di personale sanitario che turna da oggi regolarmente all'interno dei reparti covid allora il problema è se il paziente va in ospedale e non trova il reumatologo come trovava prima allora il tema è diventa appunto squisitamente organizzativo quindi c'è una parte di analisi organizzativa, di innovazione organizzativa che è importantissima oggi sia in termini di attività ospedaliera quindi all'interno dell'ospedale nella dimensione degli ambulatori e nella dimensione del ricovero perché questi pazienti e abbiamo qua eccellenti reumatologi e questi pazienti hanno anche bisogno di ricovero, sono pazienti complessi, sono pazienti gravi con complicanze gravi e possono richiedere anche la gestione a livello ospedaliero quindi il monitoraggio a distanza, la visita ambulatoriale può non essere in alcuni casi sufficiente, oggi in molte realtà del nostro paese non ci sono disponibili posti letto, reparti in grado di ricevere pazienti reumatologici come pazienti di altre ovviamente affetti da altre patologie croniche. L'altro aspetto è quello della gestione del rapporto con il territorio veniva ricordato molto bene quindi come gestire da un punto di vista organizzativo questo flusso di pazienti sia all'interno delle strutture ospedaliere che nel rapporto fra ospedale e territorio e certamente qui il ruolo del medico di medicina generale è un ruolo importante ma un ruolo importante in primo luogo come ruolo di di triage perché dobbiamo evitare che i pazienti appunto in modo non appropriato arrivino all'interno delle strutture ambulatoriali o delle strutture diciamo di ricovero questo è il punto vero da un punto di vista organizzativo. E allora quali sono e chiudo Giulia alcuni aspetti diciamo alcuni fattori abilitanti per riuscire a gestire in modo appropriato da un punto di vista organizzativo questa fase nuova diversa dalla prima della prima ondata per i motivi che ho detto è un altro aspetto che forse qualche volta si trascura ma forse appunto coloro che lavorano all'interno delle strutture possono testimoniarlo. Oggi diciamo perché non c'è un lockdown totale e si ammalano molto di più il personale sanitario perché si ammalano molto di più i familiari che che sono fuori perché i ragazzi in molte nostre realtà regionali continuano andare a scuola hanno classi in quarantena portano il virus a casa mentre prima era più come dire contenuto all'operatore che andava nella struttura sanitaria oggi è un fenomeno molto più ampio e si ammalano molto di più e quindi c'è anche meno personale all'interno delle strutture. Allora quali possibili fattori diciamo abilitanti? Si diceva della delle infrastrutture servono infrastrutture diciamo diverse se una cosa come dire possiamo rimproverare a chi amministra le nostre sanità a livello nazionale a livello regionale è che come dire forse si poteva sfruttare un pochino meglio i mesi precedenti onestamente che questo sarebbe arrivato lo si sapeva perfettamente non ci si è preparati ma questo ai noi è un male italiano la capacità programmatoria è l'ultimo dei nostri pregi ecco diciamo il primo in realtà dei nostri difetti questo andava programmato molto prima questo momento non so ho conoscenze di alcuni ospedali e come dire il panico più totale quindi aspetti relativi alle infrastrutture aspetti relativi ai processi ai processi anche organizzativi proprio di come si si accoglie un paziente e quindi gli spazi percorsi il pagamento del ticket le sale d'attesa questo può sembrare può sembrare inutile o può sembrare secondario in condizioni normali nelle condizioni attuali questo diventa un elemento fondamentale che fa perdere molto tempo agli operatori un altro aspetto penultimo e poi mi taccio Giulia che ti vedo che mi fai segnali è il personale come dire investiamo più un po' di più in personale intanto come dire nella gestione di questa emergenza e non prendiamo tutti infettivologi e non prendiamo tutti pneumologi ora con tutto l'affetto per gli infettivologi e pneumologi perché poi questo momento finirà e allora e cosa ne facciamo di tutti gli infettivologi e di tutti i pneumologi prendiamo specialisti di varie discipline peraltro oggi tutti comunque impegnati in area covid allora prendiamo anche reumatologi questo è un aspetto che diciamo forse sarebbe utile sottolineare un po' di più e l'ultimo aspetto ricordate questo considera la telemedicina la tecnologia la telemedicina è un fattore abilitante è un fattore che certamente non va a sostituire la visita di persona questo è in dubbio però può essere entro certe condizioni e con investimenti veri anche un fattore abilitante per poter gestire alcuni pazienti con gravità ovviamente non accentuate a distanza in termini di monitoraggio in modo particolare anche come diceva Paolo guzzonato anche per il tema dell'aderenza questo è un aspetto che può essere utilizzato può essere può essere sfruttato dicevo non sostituisce un monitoraggio una visita di controllo in particolare quelle tese a modificare la terapia però entro certe condizioni può essere un elemento diciamo favorente non dimentichiamoci però che tutto quello che ho detto prima cioè i processi e il personale è come condizione rimane perché è un processo organizzato strutturato e preveda la visita a distanza che preveda lo scambio di materiale documentale sul paziente quindi che ci sia in quel momento che ci sia una connessione che funziona un sistema organizzato che funziona rimane e rimane anche il tema del personale perché non è che il paziente di là non parla con nessuno di là ha comunque il reumatologo quindi il tema della dotazione di personale rimane anzi se vogliamo ancora maggiore ancora più pressante perché questo tipo di visite richiedono più tempo rispetto a quelle molto spesso che avvengono di persona quindi il tema organizzativo è un tema è un tema vero oggi quanto mai come dire questo possiamo dirlo e forse prendiamoci un aspetto positivo visto che se si prende coscienza di questo si potranno fare investimenti più più strutturati più sistematici forse può derivare qualcosa qualcosa di positivo grazie mille professor turchetti grazie davvero allora siamo intanto su facebook 380 vi ringrazio per essere collegati con noi come sapete potete mandarci le vostre richieste sul numero whatsapp che tra poco vedrete dietro la mia schiena e poi siamo 83 su zoom anche qui se volete chiederci delle informazioni o se volete fare delle affermazioni lo potete scrivere su domande e risposte allora io passerei dal prima di passare la parola al professor punzi e al professor rossini del veneto anna maria gli agnocco che anche delle slide e che a torino e che è una delle regioni in questo momento con le maggiori difficoltà sul fronte cove l'abbiamo tutti visto ieri al telegiornale che all'ospedale san luigi di orbassano i pazienti sono addirittura messi all'interno della cappella e nella e nella mensa aziendale quindi insomma la situazione è piuttosto complessa e quindi volevo chiedere oltre alla presentazione della professoressa di agnocco come vi state regolando con il covid è indubbiamente la situazione è molto difficile perché sappiamo che piemonte e lombardia sono regioni in cui il covid purtroppo sta rendendo la situazione molto molto complessa e in tutti gli ospedali indubbiamente in tutta la regione ci sono difficoltà infatti è stata dichiarata regione rossa e quindi questa è la situazione ciò che dispiace è che questo si sapeva e come diceva poco fa il professor Turchetti questo doveva essere forse un pochino più studiato e doveva essere un pochino organizzato anticipatamente e dopo durante la prima ondata era chiaro che gli esperti il comitato scientifico avevano chiaramente dichiarato che ce ne sarebbe stata una seconda avevano dichiarato anche i tempi ora il fatto è che l'Italia si è sentita un pochino sollevata dal fatto che dopo l'estate a settembre altre nazioni europee erano già alle prese quella seconda ondata qui da noi fortunatamente la cosa si era ancora contenuta ma poi c'è stata l'esplosione e allora se si fosse in qualche modo organizzato se si fosse stati pronti a questa seconda ondata e organizzato le strutture questo forse si sarebbe potuto organizzare un pochino meglio in termini di problematiche legate alla malattia all'artrite romatoide tema di questo meeting di oggi indubbiamente il problema è molto molto importante è molto importante perché i pazienti che nella prima ondata sono stati seguiti con la telemedicina con diciamo con tutti quanti in qualche modo abbiamo cercato di supportarli e mettendo chiaro e sottolineando in maniera chiara che nella prima ondata era difficile venire in ospedale c'erano altre priorità però non è più accettabile oggi che dopo così tanti mesi in cui i pazienti non vedono soprattutto un futuro perché nella prima ondata ci si diceva sempre beh con l'estate eravamo a marzo dopo due o tre mesi abbiate pazienza insomma per giugno le cose verosimilmente come tutti questi tipi di virus forse ci sarà un miglioramento e poi c'era stato il lockdown questo è quello che ha contribuito essenzialmente alla riduzione dei casi per cui ovviamente i pazienti anche noi siamo stati tutti molto diciamo ottimisti sulla possibilità di poterli rivedere ma adesso senza un futuro imminente dire ai pazienti forse per 7-8 mesi finché non ci sarà il vaccino che poi il vaccino sarà disponibile solo per un numero selezionato di persone per cui non si vede un futuro non si sa quello che succederà verosimilmente fino all'estate prossimo prima o dopo forse fra un anno questi pazienti potranno essere reinseriti nei percorsi di cura che seguivano precedentemente questo ovviamente non è accettabile se pensiamo che ci sono già altri 9 mesi in cui i nostri pazienti o anche più non sono stati visti io sono assolutamente d'accordo sulla telemedicina e concordo con il professor Turchetti ancora una volta quando questo è possibile perché ovviamente dobbiamo anche togliere i pazienti dal rischio di venire nelle nostre strutture ma oggi come oggi non tutte le possibilità sono attuabili con la telemedicina e allora se nel processo della cura del paziente con malattie aromatiche in questo caso col paziente con artrite aromatoide nel processo che porta da una medicina che va bene per tutti a una medicina personalizzata la quale ovviamente noi non siamo oggi ma nel nostro percorso e negli sforzi che si stanno facendo per questo percorso ovviamente dobbiamo considerare che non possiamo perdere degli anni all'attuazione di questo percorso personalizzato sappiamo che oggi noi abbiamo tantissime opzioni terapeutiche per i nostri malati e che la decisione deve essere condivisa con il paziente si era parlato all'inizio di una scarsa aderenza alle terapie la scarsa aderenza alle terapie e questo ce lo dicono le raccomandazioni EULAR che vi sto facendo vedere ora questi sono i principi generali che riguardano la decisione su come approcciare da parte del paziente del medico una malattia così complessa ecco il primo degli overarching principle ci dice che deve essere una decisione condivisa e se la decisione è condivisa se il paziente e il reumatologo discutono e trovano la soluzione migliore ci sarà anche una migliore aderenza assolutamente alla terapia e con le numerose opzioni terapeutiche di cui noi oggi disponiamo se può andare alla prossima grazie e con le diverse possibilità di approccio terapeutico noi dobbiamo poter decidere insieme al paziente quali sono le strategie terapeutiche migliori perché la malattia è una malattia eterogenea come ci dicono le raccomandazioni appunto che necessita come diceva il professor Turchetti chiaramente di costi elevatissimi sia dell'individuo sia della società e ovviamente il management di questa malattia è una malattia complessa indubbiamente il medico di medicina generale ha un ruolo fondamentale in che senso ha un ruolo fondamentale innanzitutto per i pazienti con le forme precoci di malattia per individuare quei casi di malattia precoce che poi devono essere indirizzati allo specialista reumatologo che ricordo è lo specialista che deve curare questi pazienti ma ovviamente nei pazienti in cui la diagnosi è stata già fatta in questo momento la collaborazione con il medico di medicina generale è fondamentale perché ovviamente il medico deve fare un triage può fare un triage e indirizzare e diciamo cercare di far affluire agli ospedali soltanto i pazienti nei quali c'è realmente una necessità e allora la telemedicina come dicevo prima si però ovviamente alcuni pazienti necessitano della visita specialistica anche in questa fase allora insieme al paziente lo specialista decide quando è necessario visitarlo quando è necessario che il paziente acceda ovviamente il paziente sa bene che è un rischio andare negli ospedali quindi andiamo avanti per cortesia con la prossima queste sono le raccomandazioni che ci danno tutte le indicazioni per cui anche se come si diceva all'inizio non ci sono oggi protocolli non ci sono protocolli di cura ci sono le raccomandazioni che allo specialista che sa trattare questi pazienti la prossima per cortesia e che sa ottimizzare il trattamento sa come gestire questa malattia soprattutto sulla base del discorso che anche oggi soprattutto dopo tanti mesi che i pazienti non sono stati visti purtroppo per la pandemia ma che non vediamo e non sappiamo per quanto tempo questo sarà possibile dobbiamo considerare e continuare a considerare che il nostro target è la remissione altrimenti i pazienti andranno verso una progressione sempre più evidente della malattia e soprattutto è necessario in alcune circostanze ovviamente in questa fase come vedete anche dalla raccomandazione numero 3 e anche in questa fase in alcune circostanze è necessario vedere i pazienti nei nostri ospedali e nei nostri ambulatori quindi se voi vedete poi andiamo avanti ce n'è ancora un'altra importante queste sono ancora le raccomandazioni EULAR per il management delle malattie aromatiche nel contesto del covid e ancora una volta è sottolineato che i pazienti devono continuare i loro trattamenti cioè il fatto che ci sia il covid non vuol dire che i trattamenti possano venire sospesi ma vedete tutti i pazienti devono seguire il loro trattamento e per molti la maggior parte di questi trattamenti il medico di medicina generale non può gestire la patologia ma è necessario comunque un consulto con lo specialista che sia di telemedicina e ci aspettiamo che la grande maggioranza dei pazienti se non tutti possano fruire soltanto della telemedicina perché diventino pazienti in remissione e nei quali non c'è bisogno ovviamente di una visita in persona ma purtroppo questo ancora non è ci sono pazienti difficili pazienti con comorbidità importanti pazienti con artrite precoce considerate che nella prima fase tutti i pazienti con artrite precoce hanno perso la finestra di opportunità che è un aspetto fondamentale perché la finestra di opportunità è quella che nelle fasi iniziali di malattia ci dà l'opportunità di attuare un trattamento opportuno come da raccomandazioni e da strategia treat to target il che è in grado di bloccare la malattia di bloccare l'evoluzione verso la disabilità se noi perdiamo altri due anni o un anno e mezzo perdendo i pazienti chiudendo questa finestra di opportunità per i pazienti con artrite precoce ovviamente la situazione diventa molto complicata ci rendiamo conto che la pandemia è una priorità la pandemia è una nessuno vuole mettere da parte i pazienti con covid che vanno incontro a gravissime problematiche assolutamente ma bisogna in qualche modo gestire la situazione così difficile da più punti di vista e quindi non dimenticare anche i pazienti con malattie croniche ovviamente in questo caso parliamo di artrite reumatoide ma il discorso è esteso a tutte le malattie croniche grazie mille professore Sagliagnocco Paolo Guzzonato mi chiedevi la parola prima proponici la roadmap prego sì io direi che sarebbe molto bello visto che abbiamo qui un parterre di clinici molto importante abbiamo visto tutti i problemi abbiamo esaminato tutti i problemi Giuseppe Turchetti li ha sottolineati quindi sarebbe bello anche sentire un po' le soluzioni proposte visto che poi tutto questo farà parte di un documento che daremo alle istituzioni per cui sia da parte dei clinici che anche da parte dei pazienti Quindi con chi proponi di proseguire? Io cambierei le giorni Io direi Maurizio Rossini Perfetto Grazie, grazie Buongiorno a tutti Mi sentite? Io sono un po' pragmatico nel mio intervento e vedrete che in maniera molto pratica confermerò quanto anticipato benissimo dai colleghi nei precedenti interventi Sono molto pragmatico perché ho di fronte la delibera della Regione Veneto relativamente appunto alla situazione drammatica e importante del Covid-19 che ci chiede appunto di ridurre l'attività programmata anche in ambito internistico tra cui la remotologia al fine di poter disporre di personale per la gestione dei pazienti Covid e poi siamo invitati a sospendere l'attività di specialistica ambulatoriale riservandolo ovviamente ai casi di prestazioni priorizzate in classe U e B e quindi capite la nostra preoccupazione riguardo appunto la gestione dei pazienti reumatici che va ricordato spesso, spesso si tratta di pazienti fragili immunodepressi e quindi che meritano ancora di più un'attenzione nell'era Covid ora capite che ridurre questo tipo di attività ci preoccupa tantissimo perché vuol dire compromettere il follow up e la continuità rischiata di compromettere ovviamente il follow up e la continuità terapeutica è già stato ricordato che l'attività di malattia non abbastanza controllata cioè non riuscire a ottenere la remissione provoca dei danni anche irreversibili in questi pazienti io vi aggiungo che anche noi abbiamo visto nel precedente emergenza che un'attività di malattia non controllata aumenta anche il rischio di manifestazioni severe del Covid-19 è come buttare della benzina sul fuoco se subentra una malattia di Covid-19 in un paziente reumatico con attività di malattia non controllata capite anche la preoccupazione per quanto riguarda un peggioramento ulteriore del ritardo diagnostico noi abbiamo visto nel precedente emergenza abbiamo anche pubblicato che purtroppo abbiamo visto casi di malattie reumatiche arrivare troppo tardi con anche delle complicanze irreversibili e pensare che stavamo appunto gestendo un'attività supplementare di recupero appunto di pazienti che non era stato possibile programmare nei mesi scorsi questo capite potrebbe addirittura peggiorare il ricorso al pronto soccorso perché se il paziente reumatologico non trova una risposta in termini di servizi ambulatoriali è molto più probabile che finisca per rivolgersi a un pronto soccorso aggravando ulteriormente la questione vorrei anche farvi notare una cosa che vedo ricordare la rilevanza del paziente oncologico assolutamente necessario condivisibile così come del paziente con malattie cardiovascolari ho l'impressione che il paziente con malattie reumatologiche ovviamente alcune malattie reumatologiche non sia abbastanza considerato in termini appunto di rischi per la salute e giustamente il collega Guzzanato chiedeva delle risposte noi come stiamo rispondendo qui a Verona in particolare effettivamente stiamo ultimo siamo già partiti stiamo ulteriormente potenziando strumenti di telemedicina anche se effettivamente ha un ruolo integrativo ma non sempre sostitutivo anche per le difficoltà dall'altra parte da parte di alcuni pazienti di utilizzare questi strumenti in particolare noi stiamo utilizzando gli strumenti di televisita con il quale abbiamo contatto diretto col paziente e di telesalute che non è altro che un monitoraggio di alcuni parametri lavorativistici clinici strumentali a distanza queste due prestazioni in regione Veneto sono state già equiparate a prestazioni in presenza quindi assolutamente riconosciuti dal punto di vista amministrativo la cosa che secondo noi manca ancora e sulla quale stiamo investendo risorse idee e che ritengo sia la risposta francamente migliore in termini di strumenti telemedicina è il teleconsulto il teleconsulto cioè il rapporto diretto col medico nel vicino generale noi appunto siamo già partiti con un PDTA a livello della provincia di Verona e all'interno di questo PDTA ovviamente abbiamo coinvolti i medici e abbiamo condiviso un documento semplificato per loro in cui segnaliamo alcune bandiere rosse per pazienti da inviarci o che meritano una particolare attenzione e voi capite che questa attività professore ma per questa attività di teleconsulto di telemedicina che è veramente una soluzione pronta immediata davvero pertinente ecco voi dedicate uno spazio della giornata e medici che si dedicano dalle ore alle ore al teleconsulto così i pazienti sanno che possono chiamarle ok prima di tutto un commento effettivamente la telemedicina ci sta portando via più tempo appunto perché è ancora troppo complicata delle visite in presenza chiusa la parentesi sì stiamo ovviamente in maniera per ora limitata con un gruppo di medici dedicando dei tempi e degli spazi dedicati a loro in cui possono contattarci perché crediamo davvero che il teleconsulto in questo momento consenta uno sicuramente di dare risposte immediate e di ridurre il rischio del ritardo diagnostico due sicuramente può contribuire a ridurre anche le liste d'attesa non c'è dubbio che la condivisione dell'afferenza della razionalità dell'afferenza dell'accesso ai centri specialistici consentirà di ridurre le liste d'attesa tre stiamo ovviamente anche cercando di fare diagnosi in collaborazione con il medico in cena generale a distanza cosa che raramente puoi fare col paziente paziente in telemedicina di solito lo gestisci per i controlli perché lo conosci già ma è assolutamente dal punto di vista medico legale anche molto incerta la possibilità di poter fare prime diagnosi e addirittura stiamo pensando anche sperando ovviamente nella collaborazione di pensare di avviare alcune terapie alcune terapie potrebbero essere avviate direttamente dal medico di medicina generale ovviamente con il consenso dello specialista e questo ovviamente riguarda in particolare alcune terapie per osse innovative gestibili sul territorio quindi capite che assolutamente la telemedicina è in questo momento la risposta più credibile e anche l'unica che possiamo pensare di potenziare infine un commento sulla questione del personale effettivamente stiamo perdendo personale perché è richiesto in area covid e credo che sia assolutamente condivisibile il suggerimento del professor Turchetti cosa che ho fatto anch'io a livello di regione veneto di pensare all'assunzione anche di reumatologi in questo momento hanno giustamente pescato anche dalle graduatorie una volta esaurite quelle degli infettivologi dalla medicina interna io credo che si possa pescare anche dalla graduatoria della reumatologia perché lì ci sono sicuramente delle risorse anche giovani immaginate che sanno gestire molti dei farmaci attualmente impiegati nella gestione del covid-19 in ambito come sapete off-label reumatologico e assolutamente vi ricordo che molte delle manifestazioni sistemiche della malattia di covid-19 assomigliano tantissimo alle manifestazioni sistemiche di molte malattie reumatologiche autoimmune ed autoinfiammatorie grazie Daniele Caro sta per collegarsi l'assessore Lanzarini ma prima che si colleghi l'assessore Lanzarini volevo fare una puntata proprio in Puglia prego a te intanto io vorrei salutare il professor Iannone che ci ha raggiunto io credo che questo sia la parola ai pazienti quindi Antonella Celano che ora tra l'altro sa per essere convocata dall'assessore dal nuovo assessore della sanità Pierluigi Lopalco Antonella intanto questa grave preoccupazione per la sospensione delle cure cioè per il pericolo di sospensione delle cure per la riduzione delle terapie precoci stavamo andando così bene con l'herry arthritis e invece tutti questi progetti si stopperanno ecco e la telemedicina siete d'accordo volete delle garanzie di accesso a questi teleconsulti buongiorno a tutti grazie Daniele per questa per questa domanda intanto una premessa lo scenario tutto ciò che abbiamo ascoltato dall'inizio fino ad ora è grazie Antonella volevo solo salutare Manuela Lanzarin buongiorno Manuela Lanzarin grazie per essere con noi immagino che abbia molta fretta cinque minuti che parla Antonella Celano così entriamo nell'argomento intanto la saluto con piacere perché è la prima volta che la vedo dopo la nuova nomina quindi intanto complimenti Antonella Celano grazie grazie Sì dicevo lo scenario che abbiamo appena ascoltato è uno scenario tragico che ovviamente aumenta le nostre preoccupazioni da pazienti e noi come associazione abbiamo ovviamente un osservatorio privilegiato anche perché noi raccogliamo anche le lamentere e gli umori da parte dei pazienti e devo dire che sono inquietanti le lettere le mail le telefonate i messaggi che riceviamo in questi giorni d'altronde in tutte le regioni ormai tutto è destinato all'emergenza e quindi tutta la routine è stata differita eppure si tratta comunque lo sappiamo molto spesso di prestazioni non differibili e quindi benvenga la telemedicina ma non dimentichiamo noi siamo assolutamente propensi a mettere in campo tutto ciò che abbiamo acquisito e quindi anche l'uso di strumenti che ci aiutino ad accedere ad una consulenza ad un controllo ad un follow up via web grazie alla telemedicina per il fronte abbiamo sempre adoperato anche dei mezzi meno convenzionali noi abbiamo adoperato anche Whatsapp per sentirci con il medico abbiamo inviato anche in periodi non sospetti le nostre indagini i nostri referti via Whatsapp però non dimentichiamo che è mancata alfabetizzazione da parte dei pazienti non tutti sono in grado di adoperare questo tipo di strumenti e quindi ci sono persone che sono comunque totalmente tagliate fuori io voglio citare un dato noi abbiamo svolto per la nostra giornata mondiale che si celebra il 12 ottobre un'indagine Acumar con We Research un'agenzia che si dedica a ricerche di mercato e abbiamo stabilito che abbiamo avuto un dato impietante nel primo periodo della pandemia noi abbiamo avuto un calo di diagnosi del 40% quindi questo significa che questo 40% di diagnosi mancate andrà ad aumentare ulteriormente i costi sociali in futuro e queste mancate diagnosi si aggiungono a tutti quei follow up che non sono stati effettuati nel periodo della pandemia che sono stati procrastinati e non sono stati totalmente recuperati perché tutto quello che è stato cancellato in alcune in molte regioni non in alcune in molte regioni e ancora in attesa di essere effettuato quindi questo ovviamente ci dà un futuro un'idea del futuro che per i pazienti reumatologici è veramente tragico cioè nel senso che noi abbiamo noi oggi stiamo parlando anche di aderenza ma l'aderenza è già venuta a mancare perché le persone che molto spesso le persone che si sono viste un piano terapeutico rinnovato in automatico non si sono sentite di continuare una terapia perché hanno avuto paura di farlo senza un controllo avuto dal medico visto che il medico ha sempre sollecitato i pazienti ad essere aderenti ad essere attenti eccetera eccetera però nel momento in cui non hanno potuto fare una visita di controllo non hanno potuto vedere il medico ovviamente abbiamo avuto grosse difficoltà anche nell'aderenza e questa mancata aderenza continua quindi il futuro nella nostra nell'artrite reumatoide di cui parliamo oggi ma in tutte le patologie croniche sostanzialmente perché questi problemi sono trasversali a tutta la cronicità vedranno vanificare tutte quei vanificate tutti gli sforzi che sono stati fatti fino ad oggi per tenere sotto controllo un paziente per cercare di tenere la patologia a bada per fargli per permettergli di condurre una vita normale quindi lavoro famiglia relazioni sociali eccetera eccetera perché tutto questo si ripercuote ovviamente sulla vita delle persone e noi non parliamo di qualcosa di astratto noi parliamo di persone che hanno una vita una famiglia un lavoro che in questo momento gli sta sfuggendo dalle mani perché il dolore gli impedisce di andare al lavoro e là abbiamo il problema della fragilità nel mondo del lavoro è difficilissimo in alcune regioni accedere a quello che è il lavoro la certificazione di lavoro di lavoratore fragile l'abbiamo visto anche in passato abbiamo avuto una un rimpallo tra medico del lavoro e medico aziendale medico competente medico di medicina generale su chi dovesse emettere un certificato con il codice V07 quindi le persone hanno avuto anche questo tipo di difficoltà viviamo una situazione che sicuramente è un'emergenza ed è talmente eccezionale che forse siamo ancora impreparati però è pur vero che forse questo nostro rilassarci nel periodo estivo convinti che tutto fosse ormai sotto controllo e ha ancora di più aguito il problema quindi non mi lungo lascio la parola all'assessore ma veramente la situazione per noi è tremenda guardi ha fatto un'analisi condivisibile al 100% e purtroppo ha ragione non è soltanto non sono soltanto le malattie reumatologiche ma sono tutte le persone che hanno un qualche tipo di cronicità pensiamo alle mancate diagnosi per il diavete che ha ripercussioni nel tempo ma che comunque fanno malissimo nel tempo e hanno numeri pazzeschi Daniela Boresi vuoi presentare l'assessore? Grazie microfono Daniela Assolutamente sì l'assessore Lanzarin come hai detto tu prima è stata riconfermata e si è ritrovata a continuare quello che aveva appena lasciato cioè l'emergenza coronavirus ecco la difficoltà che ha in questo momento ed è questo appunto che volevo chiedere anche a lei è quella di garantire l'emergenza senza penalizzare la cronicità che è uno dei punti forti in cui il Veneto in questo momento sta cercando di portare avanti il suo piano sanitario Sì grazie intanto buongiorno ringrazio Motore Sanità per l'invito la possibilità ma anche perché chiaramente è importante che anche in questi momenti in cui chiaramente dobbiamo seguire delle regole più ferre ci sia però comunque continua attenzione focus sui temi della sanità è verissimo che oggi purtroppo e dico purtroppo siamo tutti concentrati su quella che è l'emergenza di questa seconda ondata che probabilmente almeno io personalmente insomma pensavo che sarebbe stata di una portata minore rispetto invece a quello che stiamo assistendo però è altrettanto vero che ci sentiamo più preparati ci sentiamo più preparati i posti letto le terapie intensive ci sono il materiale c'è sappiamo come anche affrontare il paziente quindi anche le cure domiciliari il fatto di trattenere le persone in casa e quindi anche se vogliamo un utilizzo non come nella prima ondata delle terapie intensive ma un utilizzo molto delle sub intensive quindi è chiaro che siamo sicuramente arrivati più preparati però questa preparazione non ci ha evitato a un certo punto anche di dover interrompere e sospendere altre attività voi sapete che è appunto di due giorni fa l'ultimo provvedimento della regione Veneto che sostende le attività non urgenti ed emergenti e anche le prestazioni di prestazione avvolutoriali sempre in ambito ospedaliero quindi stiamo sempre parlando dell'ambito ospedaliero che non siano urgenti emergenti e poi tutte le attività chirurgica programmata e di elezione lo abbiamo fatto l'ho fatto a malincuore abbiamo ritardato fino alla fine da solo un dato nella prima ondata noi con 110 persone in terapia intensiva avevamo già sospeso tutto questa volta siamo arrivati a 185 persone in terapia intensiva abbiamo dato una gradualità quindi abbiamo cercato effettivamente di non sospendere i consapevoli che non possono non essere presi in considerazione non essere trattate non essere assistite le altre cronicità gli altri bisogni però cosa si sta verificando e cosa si è verificato che nonostante i piani che noi ripeto io parlo per in Veneto abbiamo pronti il grosso problema è la carenza di personale il personale che oggi purtroppo non c'è personale che all'interno delle strutture si è infettato e si sta infettando perché il virus circola in maniera molto molto veloce in maniera molto diffusa e questo ci ha imposto insomma una scelta ripeto a malincuore di questo tipo è chiaro che per quanto ci riguarda è una scelta che cercheremo di mantenere di ridurre il più breve tempo possibile ossia noi speriamo che in tre settimane passi insomma questa questa nuova ondata quindi questa curva crescente per poi appunto andare verso la discesa e quindi di riprendere le attività che ci sono proprio perché il nostro motto insomma è quello di non lasciare indietro nessuno non lasciare indietro nessuno vuol dire non solo i pazienti covid non solo i pazienti oncologici non solo i grandi traumi non solo gli infattuati l'ictus ma anche tutte quelle patologie subdole però molto invasive anche da un punto di vista sociale come quello dell'artese reumatoide che hanno comunque un impatto molto molto importante sulla qualità di vita se vogliamo ma anche su quelle che sono appunto le attività che una singola persona deve fare nella propria quotidianità le cosiddette cronicità noi abbiamo parlato per tanto il nostro ultimo piano socio-sanitario è focalizzato molto sulla presa in carico delle cronicità come appunto quando parliamo di questa patologia è chiaro che però in tempi diciamo normali riusciamo a essere molto più performanti anche se e lo devo dire insomma lo sa il mondo anche dell'associazione che penso ci stia ascoltando appunto che rappresenta appunto questa patologia ci sono state le difficoltà soprattutto nell'attivamento del personale nell'attivamento dei specialisti perché qui e dovremmo aprire una parentesi un po' più dolorosa e più complicata c'è l'annoso problema della mancanza di personale della sbagliata programmazione e di quant'altro che chiaramente oggi si va a inserire in un periodo di emergenza molto cruenta come quella che stiamo vivendo e ha anche questi risvolti però il nostro impegno lo ripeto è quello sicuramente di cercare di evitare che le persone si sentino abbandonate non vogliamo questo speriamo insomma che la parte comunque ambulatoriale distrettuale non abbiamo sospesa quindi quella può andare avanti è vero che è sospesa per un certo periodo ma è sospesa per un periodo molto limitato noi riteniamo e ritengo insomma che in un paio di settimane dobbiamo riuscire a riprendere la parte anche ospedaliera del follow up di quelle che sono appunto i vari passaggi che ci sono proprio anche perché voi sapete insomma in questo campo il Veneto ha lavorato molto ha lavorato a livello regionale ha lavorato a livello nazionale ha messo giù appunto quello che è il PDTTA insomma quella che è la presa in carico totale al 100% e su questo insomma vogliamo riprendere è chiaro che oggi non parliamo di un momento normale e di un periodo insomma in cui siamo in grado di programmare e dire in maniera normale come altre volte però c'è la consapevolezza che c'è una strada tracciata che avremmo ed è inutile insomma non sarebbe non corretto non giusto non onesto da parte mia non dire che in questo momento insomma ci potrebbero essere dei disservizi ma io mi auguro che siano disservizi molto molto brevi e legati solo insomma a passare questa nuova curva e questo nuovo picco che noi insomma ipotizziamo nell'arco di dieci giorni per poi riprendere effettivamente le normalità e le attività e guardate io mi auguro una cosa da assessore rinominato alla sanità che effettivamente insomma siamo nella seconda ondata non lo so perché poi qui sapete insomma tutti dicono tutto il contrario di tutto quindi ci sarà una terza ondata la spagnola non la butta la satma per carità vedremo cosa succederà però io mi auguro che effettivamente nel 2021 possiamo ritornare a fare programmazione sanitaria a fare pianificazione sanitaria e effettivamente riprendere in mano i tanti progetti che noi abbiamo in campo clinico in campo specialistico ma anche in campo se vogliamo socio sanitario di presa in carico totale del paziente che vuol dire sia nella in quella che è la diagnosi diagnosi precoce l'accompagnamento terapeutico farmacologico ma anche poi l'accompagnamento da un punto di vista sociale quindi anche di qualità della vita di inserimento del mondo del lavoro insomma in tutti quelli che sono gli step che poi un paziente cronico deve seguire ma deve anche insomma vivere nell'arco della sua vita grazie mille assessore Daniele ti do la parola subito volevo solo darla ancora a Daniele che poi ci deve salutare anche lei no io quello che volevo dire è che oggi ad esempio sui nostri giornali soprattutto nei giornali veneti quello che sta facendo la parte del leone sono i cattivi comportamenti della popolazione per cui devo dire che anche dal punto di vista di chi amministra si sta trovando di fronte una buccia di banana in casa cioè si fa tanto lavoro per arginare le emergenze poi basta un weekend di sole oggi è una giornata splendida lo vedete attraverso la mia finestra e la gente esce si assembra e non mette la mascherina sembra banale questo mio appello però l'assessore l'ha fatto anche oggi attraverso i suoi social e continua a farlo se vogliamo garantire non solo l'emergenza ma anche la cronicità dobbiamo tutti pensare che è nelle nostre mani il nostro futuro ed è il futuro di queste categorie le categorie che hanno bisogno di un intervento di emergenza ma anche quelli come giustamente dicevano i professori prima hanno bisogno di una di vedere garantito il loro percorso di cronicità Daniela io stavo chiedendo all'assessore visto che oggi si riunisce la cabina di regia se si aspetta che il Veneto cambi colore diventa arancione il Veneto ha 50.000 positivi attualmente più di 50.000 e con una variazione di 3.000 al giorno in più è preoccupata? stavo guardando i dati 53.145 mi diceva 50.000 allora io sono preoccupata non tanto per il cambio scenario nel senso i nostri parametri perché voi sapete i 21 parametri che poi sono in discussione anche in questo weekend sono stati molto proprio perché sono parametri effettivamente che riescono a inquadrare il problema da un punto di vista dico di interlocuzioni tra le varie prevenzioni tra le regioni tra la parte tecnica non qui dalla parte politica quindi c'è l'ospedalizzazione l'occupazione della terapia intensiva noi siamo la regione con la più bassa indice di occupazione della terapia intensiva mi sembra il 17% rispetto invece alle altre regioni che sono già sopra il 30% che era un po' la sticella insomma che faceva che fa preoccupare e ce ne sono il 50 il 49 il 45 e anche per quanto riguarda l'occupazione noi facciamo tanti tamponi quindi noi riteniamo insomma che abbiamo una situazione che è monitorata è una situazione che non ci deve gestare insomma preoccupazione di cambi scenari di questo tipo poi vedremo la parte tecnica però è altrettanto vero e mi fa piacere appunto che la dottoressa Borese abbia fatto questo appello che tutto è molto legato ai nostri comportamenti e anche io ho visto questo fine settimana di quelle scene infatti prima era un'unità di crisi e stavamo ragionando su pensare e parlare con i primi cittadini dei capoluoghi perché non ci possiamo permettere un altro fine settimana come quello che abbiamo visto cioè va benissimo il sole le belle giornate la voglia di uscire però devono essere comunque mantenuti i comportamenti corretti utilizzo mascarina distanziamento lavaggio spesso delle mani perché questo può fare la differenza anche nel cambio dei scenari Grazie mille Assessore Andarin grazie Daniele a questo punto ciao Daniele grazie buon lavoro buon lavoro a tutti grazie Assessore ciao Daniele cambierei regione e passerei ad Alberto Cauli da Cagliari che è stato il primo peraltro a collegarsi stamattina quindi mi sembra corretto rispettare anche un po' le tempistiche poi ritorniamo nelle regioni nelle quali siamo già stati Alberto Cauli è ancora con noi speriamo che sia ancora collegato che non si sia stufato di attendere Alberto allora mentre noi cerchiamo Alberto Cauli a questo punto c'è la dottoressa Corrado che proporrei sì sì è la dottoressa Corrado certo Ada Corrado devi mettere il microfono Ada buongiorno mi sentite sì Corrado sì buongiorno 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 abbiamo parlato molto di telemedicina la la Foggia proprio l'azienda universitaria ospedaliera ha lanciato un programma di telemedicina esatto quindi questo potrebbe entrare in campo sì io voglio premettere che la reumatologia universitaria di Foggia è impegnata in prima linea del covid siamo uno dei reparti che è stato trasformato completamente in covid per cui mi sentite sì bene bene sì per cui devo dire che l'azienda ci ha fornito la possibilità di utilizzare una piattaforma per poter seguire i pazienti che ci è servita devo dire soprattutto nella prima ondata quando insomma erano state bloccate le prestazioni non urgenti l'abbiamo utilizzata devo dire che utilissima soprattutto però per i pazienti già conosciuti quindi per i pazienti che già conoscevamo dei quali sapevamo l'affidabilità tra virgolette molto più difficile è stato utilizzare in pazienti con diagnosi relativamente recente è stata utile soprattutto per stabilire e secondo me può essere utile soprattutto per stabilire quali sono i pazienti che in realtà poi necessitano di una visita in presenza questo può essere un aspetto insomma importante dell'utilizzo della telemedicina e in questa seconda ondata devo dire che fortunatamente se posso utilizzare questo termine non c'è stato il blocco delle attività ordinarie quindi in questo momento per fortuna stiamo garantendo l'assistenza ai pazienti reumatici che hanno insomma che hanno fatto normalmente richiesta che vengono seguiti abitualmente da noi non so che cosa succederà in futuro e per futuro intendo i prossimi giorni quindi sicuramente questa piattaforma che ci ha fornito l'ospedale e continueremo ad utilizzarla anche in futuro se ci sarà bisogno quindi follow up ancora riuscite a seguirli a distanza ma al momento com'è? denuncia che ha fatto Celano il 40% di diagnosi mancato ma infatti il problema è bloccato ecco questa è la crisi maggiore il problema della telemedicina secondo me almeno per l'esperienza personale che abbiamo avuto noi che può andare per i pazienti già conosciuti il problema è utilizzarla nei pazienti che necessitano di una nuova diagnosi gli è davvero difficile cioè personalmente non non mi sentirei di poter fare una diagnosi delicata come una diagnosi come può essere una diagnosi reumatologica utilizzando solamente la telemedicina Leada Corrado grazie Daniele allora io andrei da Alberto Cauli che vedo professore ordinario di reumatologia a Cagliari come è la situazione intanto come è la situazione covid dei pazienti cronici in Sardegna grazie saluto tutti i partecipanti mi sincero che il mio audio sia corretto sia mi sentite bene perfetto beh diciamo che purtroppo noi stiamo soffrendo la seconda ondata come tutta Italia però forse noi eravamo stati un po' più fortunati nella prima fase quindi adesso siamo un pochino maggiormente sotto pressione per quanto riguarda i pazienti reumatologici noi abbiamo una bella rete territoriale faccio il riferimento prima al professor Rossini alla rete territoriale veneta noi abbiamo 36 ambulatori nel territorio che in rapporto alla popolazione della Sardegna nettamente di Nuova Veneto quindi è un buon numero con due unità complesse una Cagliari e una Sassari quindi in linea con la programmazione nazionale in base alla popolazione la sfortuna è stata che la unità operativa complessa di reumatologia di Sassari fosse incardinata fisicamente all'interno di un edificio con la medicina quindi nel momento in cui hanno trasformato l'edificio e la medicina in centro Covid l'areumatologia è stata inglobata quindi in questo momento sta operando come centro Covid purtroppo era proprio la locazione originaria che è stata sfortunata non ha giocato a favore dell'areumatologia e non si poteva far niente perché diciamo c'è stata l'emergenza maggiore a Sassari quindi diciamo anche i colleghi di Sassari stanno combattendo con le loro mani contro la pandemia detto questo la rete territoriale continua a funzionare Cagliari come messa ebbene noi avevamo eravamo in attesa di un diciamo di un supporto di organico già deliberato già deliberato ed efficace purtroppo l'emergenza ha fatto sì che questo trasferimento venisse bloccato inoltre purtroppo senza scendere nei dettagli di privacy due colleghi del nostro organico con cui combattimento per cui sono incorrelati alla pandemia e quindi diciamo ci troviamo un po' sguarniti in un momento in cui in realtà avremmo necessità di più energie e soprattutto con i distanziamenti temporali e spaziali tutto si allunga e quindi questo diciamo crea dei grossi problemi inoltre ci sono stati dei casi nel personale in diverse le parti dell'edificio l'areumatologia quindi questa ha determinato sospensione dei servizi tamponamento ripetuto tutti i dipendenti infermieri medici specializzanti di sospensione dell'attività di ricovero ambulatoriali adesso diciamo lo screen tutto il personale è terminato con i terzi tamponi diciamo e quindi dovremmo riprendere la settimana prossima però ci troviamo molto sguarniti ed è di ieri ma Antonella questo lo sa la pubblicazione di Avantieri di una bella lettera della rappresentante e di Manuela rappresentante Sata delle nostre difficoltà in organico io devo dire ho scritto ripetutamente però effettivamente un momento in cui non ci ascoltano perché sono sopraffatti dall'emergenza devo dire che all'inizio un po' mi arrabbiavo anzi mi arrabbiavo molto adesso non dico che lo capisco né lo condivido però siamo in emergenza e noi cerchiamo di fare il possibile però abbiamo delle limitazioni faccio un esempio perché mi riferisco un po' a quello che ha detto professor Rossini prima sul discorso della reumatologia che subisce lui l'ha detto in termini positivi cioè che i reumatologi vanno ad aiutare e questo sicuramente è vero noi non ci tiriamo indietro però faccio un esempio io dieci giorni fa ho contratualizzato una sinistra di ricerca anzi un rinnovo di assegno un ragazzo che si è laureato la cattolica si è specializzato a noi perché ormai i medici girano aveva firmato dieci giorni fa poi in 79 in 24 ore è stato contattato dal maggior ospedale un capologo di regione di un'altra regione mi hanno proposto un ruolo di dirigente medico una medicina è venuta a salutarmi la sera professore è una straordinaria opportunità per me effettivamente lo era che comunque era di quella regione e quindi è partito sta assistendo malati covid era una persona che aveva tanti numeri per rimanere in ambito della ricerca dell'assistenza in reumatologia e adesso è un dirigente medico in medicina interna e tutto il mio quarto anno è stato decapitato sono stati assunti dalle ASL chi in PS chi in medicina chi in Sardegna chi ad Ancona chi nelle Marche anche il terzo anno è decapitato perché sono andati nel territorio quindi sono ritrovato con i primi due anni adesso il mio secondo anno da pochi giorni è transitato al terzo li stanno corteggiando quindi oltre ad avere una carenza di strutturati mi vengo anche vedo gli specializzanti che mi sfuggono perché un po' hanno l'entusiasmo di andare a dare il loro contributo un po' chiaramente anche le ambizioni di sentirsi grandi cioè professionisti dirigenti quindi la reumatologia in effetti sta pagando in termini di spazi in termini di personale in termini di tutto difficile anche opporsi in maniera troppo tranchant perché bisogna avere un po' un equilibrio se no alla fine veniamo un po' presi come chi pensa a se stesso io chiaramente cercherò di non mollare uno spillo però poi è anche poi difficile perché uno non viene compreso viene preso per marziano che non si rende conto di ciò che sta succedendo quindi neanche farlo in maniera un po' elastica cioè cercare di resistere io per esempio ho riuscito a mantenere i miei 11 posti letto di ricovero ordinario questi li sto dipendendo molto bene però sono fortunato perché sono in un edificio dove c'è la neonatologia e l'ostetricia e quindi chiaramente con i neonatini e con le donne gravide è difficile mischiare i covid quindi ho stato fortunato logisticamente di ospital che continuiamo a fare tutti i pazienti ne hanno necessità di continuare a fare rimandiamo diciamo il non urgente gli ambulatori però abbiamo avuto un blocco proprio in virtù dei positivi nel personale c'è stato proprio un momento in cui ha circolato nell'ospedale e giocò forza lì la direzione generale ha dovuto bloccare però siamo positivi sono positivi nel senso negativi al tampone ma positivi mentalmente speriamo di ritornare a pieno regime e faremo di tutto per dare le risposte ai pazienti quindi speriamo di rispondere ad Antonella in termini positivi quanto prima e a Maria grazie mille grazie allora Silvia Tonolo abbiamo sentito che la reumatologia sta pagando un prezzo molto alto nei confronti del covid quindi chiederei il suo il suo parere ma anche chiederei il suo parere su quanto diceva adesso il professor Cauli ovvero dobbiamo anche renderci conto del momento in cui ci troviamo dove dobbiamo fermare la sticella fino a quando dobbiamo spingerci a chiedere per non ritrovarci poi in una condizione di gravità estrema e nel contempo riuscire a superare questo momento domanda difficile non tanto difficile nel senso che il professor Cauli mi sembra positivo e sono felice per lui io invece non lo sono assolutamente non lo sono assolutamente perché quando noi avevamo già paventato nel marzo del di quest'anno la problematica covid pensavamo che durante l'estate ci fosse come dire una programmazione sanitaria degli ospedali e del territorio questo è venuto a mancare l'ultimo dpcm della scorsa settimana parla chiaro non siamo stati citati in nessuna riga del dpcm come lavoratori fragili soprattutto neanche come patologie nessuna delle patologie croniche è stata citata noi come associazione nazionale abbiamo fatto una richiesta di sottoscrizione da parte di parlamentari perché si prendessero carico di porre delle interpellanze delle interrogazioni urgenti al dpcm perché è vero che noi dobbiamo in qualche modo essere solidali per questa situazione così drammatica ma è anche vero che non possiamo essere dimenticati prima era stato detto beh non proprio dimenticati l'assessore lanzarin ci dice di aspettare e quindi quella delibera che citava prima al professor Rossini da parte della regione Veneto e come in altre regioni di sospensione delle attività ambulatoriali non voglio dire non credo che durerà 15 giorni non credo allora mentre prima avevamo l'idea che forse durante l'estate il covid si sarebbe frenato adesso abbiamo davanti un inverno intero e anche una parte dell'autunno e una parte della primavera sicuramente perché i numeri sono alti perché i numeri sono preoccupanti e soprattutto perché abbiamo anche delle informazioni che come dire non danno come dire spaventano i malati cronici e in particolare i malati reumatologici che noi rappresentiamo questo perché perché ognuno dà idee e pensieri diversi perché purtroppo stando incollati a casa abbiamo anche la televisione piuttosto che i social che ci come dire mettono anche dell'ansia noi siamo persone che soffrono di patologie invalidanti croniche che siamo immunodipressi e quindi anche tutto quello che ci eravamo detti sulla vaccinazione anti-influenzale è come stata un po' messa da parte perché naturalmente i vaccini non ci sono non ce ne sono tanti a sufficienza quindi come dire noi abbiamo anche teso non una mano due mani anche tutti e due i piedi e anche le due guance il problema è che la programmazione sanitaria non si può fare così la programmazione sanitaria deve essere stesa in un modo come dire anche in condivisione con le associazioni pazienti che sono quelle che recepiscono dal territorio tutta una serie di problematiche perché voglio dire la diagnosi precoce va bene ma tutti i pazienti che erano in cura che da marzo continuano a essere traslati nel tempo per quanto riguarda la loro patologia perché è vero che vogliamo arrivare alla remissione ma in questo caso parlare di remissione mi sembra anche un po' come dire indelicato nei nostri confronti noi abbiamo anche bisogno perché voi avete parlato prima si parlava il dottor Guzzonato parlava di diagnosi precoce modelli assistenziali rete di patologie rischi di attesa multidisciplinarietà PDTA light telemedicina tutte belle parole sicuramente tante belle parole però poi alla fine siamo noi a doverci come dire no prendere tutto il carico di questa problematica che è stata una disorganizzazione generale che ha provocato nei territori perché poi ci saranno sicuramente le realtà virtuose ci saranno sicuramente i direttori generali che hanno una particolarità una particolare attenzione verso le nostre patologie però voglio dire se io dovessi fare un quadro attuale di com'è la reumatologia in Italia io direi che non è così positiva la situazione poi io non posso certo lasciare al professor Punzi piuttosto che al professor Rossini al professor Iannone al dottor Fusaro e tutti gli altri la loro e la professoressa Iagnocco la buona volontà di contattare il paziente con il cellulare piuttosto che con la mail devo anche capire che dall'altra parte cioè dalla parte del paziente c'è una necessità di condividere alcuni momenti della mia patologia alcuni momenti di comorbidità che dal niente possono avvenire e soprattutto avere anche un punto di riferimento che potrebbe essere il medico di medicina generale che però della mia patologia in questo momento non può interessargli più di tanto perché è talmente preso da essere quello che è contattato se c'è una bronchite in atto da quello che è contattato perché forse è positivo da quello che forse è da quella paziente che forse è incinta ma non riesce a contattare il ginecologo da quello che ne so che ha una polmonite da quello che si è rotto un piede cioè voglio dire io il medico di medicina generale e soprattutto la parte della vaccinazione e non dimentichiamoci la parte dei tamponi perché nella nostra regione per esempio i medici di medicina generale hanno l'obbligo di fare il tampone come dire l'obbligo è stato dato dal governatore Zaia come priorità cioè tutti i medici di medicina generale fanno il tampone allora io non posso oberare una persona e poi anche aspettarmi che mi risponda al telefono perché io oggi mi sono svegliata che ho una lombalgia fulminante che non sono capace di alzarmi dal letto ho una riacutizzazione della malattia e il mio reumatologo non riesco a contattarlo perché è cooptato nei reparti Covid allora la positività era quella di durante i due tre mesi di come dire non preoccupazione del Covid perché i numeri erano calati di chiamare ai tavoli che esistono nelle regioni soprattutto quelle che sono partecipi oggi in cui si diceva cosa facciamo se ci ricade invece sono stati tutti positivi sono stati tutti come dire abbiamo l'acqua di rose e alla fine ci ritroviamo che a Torino è così che in Veneto è così e a Bari lo stesso Foggia lo stesso Napoli Benevento non ne parliamo e quindi voglio dire situazioni in cui io vorrei io noi credo che con Antonella è da marzo fine a febbraio che andiamo avanti a fare della informazione trasparente e pulita per non far calare anche la preoccupazione dei pazienti reumatologici però abbiamo bisogno anche del supporto a parte della parte clinica che c'è e l'abbiamo ma delle istituzioni che a un certo momento quando decidono di fare programmazione non mettano come priorità unica ed esclusiva il Covid che sicuramente è una priorità ma secondo me una via di uscita c'è se ci mettiamo tutti insieme il problema è che quando decidono dall'alto e mi è piaciuta una cosa importantissima che ha detto la professoressa Iagnocco ricordatevi che quando parlate di aderenza se manca la decisione condivisa con il medico il paziente non sarà mai aderente quindi non è aderente un po' perché gli traslano i piani terapeutici così ma soprattutto perché non esiste una condivisione con il medico specialista di alcune come dire cose che avvengono durante anche l'epoca Covid cioè voglio dire direzioni generali che si inventano che comunque si possono cambiare farmaci si possono cioè il paziente cade cioè gli viene una pietra in testa e non capisce più niente dice beh a sto punto io il farmaco non lo faccio il medico non mi ha detto nulla cioè parliamo di aderenza perché aderenza dobbiamo parlare quando abbiamo fatto una condivisione con il nostro medico di terapia perché altrimenti il paziente molla tutto e poi però andremo a parlare di quel 30% di cui si parlava prima di costi della malattia ma di soprattutto del 70% dei costi indiretti che purtroppo le regioni non le vedono e continuerò a dirvelo finché avrò vita perché il 70% di quelli costi indiretti li vede solo ed esclusivamente lo stato centrale perché tutto quello che è elargizioni di pensioni piuttosto che di malattie piuttosto di tutto quello che ci caregiver non dimenticatevi caregiver perché li dimenticate spesso ma i caregiver sono oltre a mariti mogli compagni eccetera ma anche mamme di bambini che hanno patologie reumatologiche che non vengono mai citati neanche nei dpcm cioè bambini che soffrono di patologie reumatologiche che magari non possono andare a scuola che i genitori non possono rimanere a casa dal lavoro quindi perché dobbiamo dimenticarci anche di questa parte della nostra società è il nostro futuro grazie Silvia Tonoro Daniele e Paolo come proseguiamo? Io volevo se è possibile due parole io forse la signora Tonoro ha interpretato un po' male le mie parole io non è che sono mezzo contento assolutamente no no forse ha lasciato come dire un po' si è abbandonato a questa situazione purtroppo no minimamente io sto scrivendo in continuazione e sto lottando ora sto cercando un equilibrismo perché quello che non voglio è che si ricordino che ho 11 posti letto che possono essere utilizzati diversamente io sto facendo lo sto utilizzando per ricoveri specialistici di reumatologia così come anche il The Hospital e così come i miei infermieri li ho difesi tutti non ne ho perso uno e stiamo erogando il servizio però diciamo ho un po' di difficoltà ad essere ascoltato quindi ho difeso ciò che avevo non sto riuscendo ad avere ciò che mi era stato promesso ma mi rendo anche conto che è in corso una caccia al medico quindi difendere il mio organico i miei infermieri i miei letti non è una sconfitta è diciamo i miei piani di acquisire più personale e li devo un po' rimodulare nel tempo però aver difeso il 100% del mio staff da eventuali altri utilizzi dei miei letti non è una sconfitta cioè in questo contesto in cui diciamo certi reparti vengono proprio chiusi e non so come definirla non vorrei che la signora autonoma mi io sto facendo tutto ciò che posso poi non li posso neanche prendere per il colletto guardi solo che l'unione fa la forza l'unione fa la forza ma non a caso abbiamo il sostegno della rappresentante locale dei malati delle diverse associazioni non a caso sto apparendo sui giornali uscirò nell'emittente locale più seguita proprio a difendere le malattie reumatiche e anche le istituzioni di nuovi ambulatori dedicati e quindi anche queste cose abbiamo fatto delle call dei webinar con i medici di famiglia cioè ci stiamo dando da fare l'attenzione generale purtroppo e sull'emergenza ma diciamo anche a comprenderlo ci difendiamo ma devo dare la parola alle altre regioni allora Daniele e Paolo facciamo il punto insieme dobbiamo far parlare il professor Sinigaglia che si è collegato ora dobbiamo far parlare Enrico Fusaro da Torino che è rimasto collegato tutta la mattina Giannone da Bari che è collegato Leonardo Punzi che è collegato all'inizio e che ha anche una presentazione dal Veneto quindi intanto chiederei se qualcuna delle persone che abbiamo citato ha problemi a rimanere fino alle 13.30 e diciamo al momento di dirlo se avete il problema Fusaro riesce a rimanere fino alle 13.30 allora lascerei l'ordine lascerei scegliere l'ordine Daniele e Paolo ma eravamo in Puglia Paolo Giannone sì certamente il professor Giannone Giannone ora diceva chiaro prevale il momento della denuncia e siamo d'accordo anche con il professor Cauli la reumatologia oggi è sulle barricate su questo sentiremo il presidente della Sir Luigi il professor Sinigaglia ma la Puglia ecco la Puglia un momento proprio alla vigilia del Covid era in un momento in cui stava avviando una forte ridefinizione organizzativa cioè stava ridefinendo il modello di rete la Puglia forse la rete reumatologica più più vecchia d'Italia nel senso che ha avuto questo primato però ora si poneva il problema di una implementazione organizzativa e io Giulia se sei d'accordo Paolo certamente d'accordo con me d'ora in poi passerei dal momento dell'analisi alle proposte alle proposte condivise perché Paolo Guzzonato ci ha dato una proposte concrete diciamo così e quindi chiederei diciamo alla parte finale così come dice Daniele proprio di arrivare a delle proposte concrete già dal professor Iannone ecco infatti il professor Iannone sicuramente ha le idee molto chiare su come migliorare anche partendo da questa fase difficile le diagnosi early da poco per esempio lui ha varato e ne ha parlato a settembre durante la fiera del Levante il progetto della diagnosi precoce nelle spondiliti ma insomma la Puglia e la reumatologia dell'Università di Bari si pone il problema della diagnosi precoce dell'accesso alle terapie innovative che possono bloccare l'evoluzione verso l'invalidità ecco ora come ha detto Silvia Tonolo ci prepariamo all'inverno sarà l'inverno del nostro scontento ma dobbiamo invertire la rotta ed è l'innovazione che può farci invertire la rotta una ridiscussione dei PDTA eravamo a questo momento la multidisciplinarietà che prima della crisi era invocata proprio da da Celano dal programma delle associazioni dei pazienti che mettevano la multidisciplinarietà ricordiamo tutti al primo posto professore Iannone come ripartiamo quali proposte mettiamo in campo professore Iannone forse non ha un buon collegamento in questo momento però possiamo rivolgere possiamo rivolgere allora la domanda al professor Fusaro grazie e ora ti sentiamo ma ho una connessione non stabile in effetti saluto tutti i partecipanti approfitto un attimino di questa parte di funzionamento della rete mi senti Daniele certo ok e innanzitutto ringrazio nuovamente tutti chi ha organizzato questo questo incontro ne abbiamo parlato tanto ma probabilmente ne dovremo parlare ancora a lungo io però volevo fare brevemente scusate mi sono connesso in ritardo perché ho il mio giro di reparto e adesso devo scendere giù negli ambulatori a luna il professor Cavoli ha fatto un piccolo accenno che secondo me dovremmo considerare globalmente ovviamente sono a fianco alla salutazione pazienti 24 ore al giorno assunto questo quello che stiamo rischiando noi come noi siamo in un osservatorio privilegiato quindi dovremmo cercare di guardare un po' a 360 gradi quello che accade intorno è un piccolo indicatore ad esempio che in questa settimana nel mio reparto ho fatto 5 nuove diagnosi di neoplasie per i ritardi di accesso quindi sto parlando di neoplasie e non di malattie aromatiche per dire che noi non siamo noi non siamo insensibili a quello che accade al mondo alla salute dei nostri pazienti qualunque sia tra virgolette la la problematica stiamo però rischiando un impoverimento culturale che probabilmente non riguarda sicuramente l'emergenza ma in futuro sta accadendo quello il decapitare gli anni di specializzazione sta diventando drammatico noi lo risentiremo adesso stiamo utilizzando gli specializzanti per dicariare e supportare quello che non è stato fatto negli anni precedenti quindi questo ritardo di formazione di crescita che abbiamo nei nostri medici adesso stiamo decapitando le specializzazioni per cui i nostri specializzanti non vedono l'ora di arrivare al terzo anno per arricchire diciamo per arrotondare i loro stipendi e quello che accade qualche volta sono gli specializzanti che vanno pur essendo bravi medici andare nei fronti o s'accorta a gestire situazioni così complesse probabilmente non sono ancora maturi per farlo vabbè questa era una mia considerazione perché di questo tipo di impiego usate l'espressione degli specializzanti ne pagheremo le conseguenze fra una decina d'anni detto questo cosa stiamo cercando di fare in Puglia detto che è stato più semplice gestire il lockdown completo perché quando il lockdown era completo voglio dire abbiamo avuto una maggiore c'era meno confusione intorno quindi c'erano degli interlocutori fissi c'erano degli orientamenti ben precisi siamo riusciti a mantenere per quanto riguarda vari sia l'attività ambulatoriale che l'attività di reparto io ho 17 posti letto adesso un attimino ridotti per ottimizzare gli spazi e però riuscivamo addirittura ancora a mantenere un rapporto con il territorio per quanto riguarda la gestione dell'early arthritis perché non abbiamo avuto una chiusura completa nel senso che la definizione di urgenza ed emergenza è stata affidata a noi medici e quindi voglio dire nessuno può definire quello che è urgente e quello che non è urgente sta al medico specialista in questo caso interagendo con i propri pazienti definire un livello di emergenza tale da intervento e questi fattori sono tanti e qui ci sono le associazioni pazienti che non sono semplicemente legati allo stato di attività di malattia ma a tanti altri quindi la nostra attività per la definizione per l'identificazione delle malattie reumatologiche scritti in fase precoce diciamo ha funzionato abbastanza bene nei primi periodi adesso stiamo stiamo avendo anche noi un po' di difficoltà e parte di questa difficoltà è anche dovuta all'effetto panico quindi vorrei esortare le associazioni a diciamo a stare non che non lo siano ovviamente ma a tranquillizzare i pazienti perché quello che qualche volta sta accadendo è che i pazienti disertano stanno disertando gli appuntamenti negli ambulatori e questo e questo può creare ulteriori problemi a quelli già esistenti quindi per quanto riguarda Varia adesso stiamo riuscendo ancora a mantenere il dottor Amoruso faceva riferimento all'importanza di continuare a lavorare a livello istituzionale stamattina ho sentito l'Ares che è l'agenzia regionale per i servizi sanitari eccetera eccetera perché stiamo appunto cercando di ottimizzare e di aggiornare la rete aromatologica siamo a buon punto e in questo aggiornamento della rete aromatologica condiviso con la situazione dei pazienti stiamo ad esempio ottimizzando la raccolta dei dati e l'informatizzazione dei dati che detto adesso in un contesto di questo genere sembra una cosa superflua ma è fondamentale perché l'ottimizzazione della raccolta dei dati che la regione spero ci potrà supportare almeno sulla carta lo sto facendo e il prologo e il presupposto necessario per poter parlare poi di teleconsulto o addirittura di televisi che non si raccolgono bene se non si informatizzano le reti ovviamente questo discorso del teleconsulto non va oltre il whatsapp oppure la mail che abbiamo sempre fatto anche in passaggio quindi questo è un passaggio assolutamente importante che noi stiamo facendo e quello che l'Ares da noi almeno alcuni colleghi l'Ares hanno intuito ne parlavo stamattino che in un periodo in cui le risorse non sono non sono orientate verso la specialistica diciamolo purtroppo almeno verso la nostra almeno l'ottimizzazione delle risorse attuali perché come sapete lo spreco o comunque una non corretta autorizzazione dell'ordine del giorno l'ottimizzazione delle risorse attuali ci può almeno consentire di gestire al meglio questa fase tra delle due rette e delle agenziali questo la regione Puglia almeno l'Ares che probabilmente è meno coinvolto in prima in prima persona nell'ondata nell'ondata di panico che sta attravolgendo tutto l'Italia sembra voler recepire il nostro messaggio quindi bisogna sicuramente organizzarsi in una rete in una rete più complessa che non è semplicemente intesa come rete di assistenza altrimenti le iniziative saranno locali chi avrà meno difficoltà o chi avrà più difficoltà ma se non c'è una sorta di rete di mutuo soccorso che aiuti un po' tutto un po' tutto la struttura reumatologica in senso lato ovviamente i pazienti i pazienti i pazienti potranno avere ulteriore difficoltà cito un'ultima cosa con il professor Cantatore che come vi ha detto la sua alliera la professoressa Corrado è diventato reparto covid e ci siamo messi d'accordo a livello interpersonale che ove fosse necessario vari che non è un reparto covid potrebbe prendere temporaneamente in assistenza i pazienti di Foggia questo deve essere organizzato a livello regionale non semplicemente per fortuna c'è un accordo fra strutture differente io io mi mi taccio grazie professor Iannone grazie mille allora Leonardo Punzi professor Punzi professore Iannone diceva ripeto che al di là della singola iniziative se non c'è rete organizzazione è difficile ecco non c'è rete allora grazie Daniele volevo dare la parola a Leonardo Punzi perché parlando proprio di rete regionale il Veneto rappresenta una testimonianza di una rete molto organizzata state reggendo l'impatto di questo periodo e come è organizzata la vostra rete professor Punzi prego con pochissimi slide si bene se può far passare insomma stiamo reggendo devo dire nei limiti del possibile però è importante in questo momento ricordarsi che le organizzazioni bisogna farli prima e non nei momenti di emergenza ecco quindi stanno venendo fuori alcune considerazioni se mi fa vedere la prima slide ecco un po' riproduce l'organizzazione veneta la rete reumatologica veneta quindi come si può vedere esistono due unità operative complesse che sono nelle sedi universitarie a Verona e Padova due unità dipartimentali una con postiletto a Venezia e una senza postiletto a Belluno poi esistono sette unità operative semplici 43 ambulatori allora questa è la cosa importante che non tutti sono sai ma la maggior parte sono sai cosa vuol dire vuol dire che questi per esempio non risentono del decreto ultimo cioè di non fare visite specialistiche che riguarda visite specialistiche se non non urgenti che riguarda invece gli ospedali quindi questo è già un punto che bisogna sempre ricordare anche per il futuro nell'organizzazione reumatologica la distribuzione territoriale poi esistono 23 centri prescrittori di farmaci biologici anche questi naturalmente possono dopo essere più vicini all'esigenza del paziente 6 centri di riferimento regionali va bene per patologie particolari vado avanti ecco allora questo tipo di sistema della rete ha dei punti di forza l'organizzazione del sistema hub e spoke numerosità distribuzione territoriale la diffusione di centri prescrittori di farmaci biologici ecco altre cose importanti sono che a un reumatologo ormai da otto anni fino a due anni fa l'ho fatto io adesso c'è il professor Rossini fanno parte in pianta stabile della commissione regionale del farmaco poi da qualche anno ci è chiesto un parere preliminare in preparazione della conferenza stato regioni per stabilire il numero di specializzanti che quest'anno la nostra richiesta è stata accolta in pieno poi abbiamo lavorato anche sulle richieste per esenzione dal ticket per malattie reumatologiche e abbiamo anche istituito un sito informativo per pazienti perché questa è un'altra cosa importante noi ci tocca nelle visite ambulatoriali perdere metà del tempo per cercare naturalmente di rispondere ai pazienti che hanno avuto informazioni più o meno sicure attraverso internet e quindi a questo punto abbiamo stabilito in collaborazione con un'associazione di fare un sito informativo che è praticamente istituzionale cioè riguarda tutti i reumatologi del Veneto e tutti i pazienti possono rivolgersi a questo sito ufficiale per avere informazioni però ci sono dei punti di debolezza uno è il ritardo nella pubblicazione del PDTA il PDTA poi ci mancava anche il Covid ma noi come Rossini Maurizio ha prima detto lui è riuscito in modo sperimentale a far passare il PDTA sperimentale nella provincia di Verona non siamo ancora riusciti a livello regionale è tutta un'avventura ma spero che si concluda presto poi questo è un punto cruciale che si riallaccia a quello che diceva prima Alberto cauli cioè noi abbiamo queste due i due i due i due centri hub hanno posti letto cioè Padova e Verona e l'altra struttura con posti letto l'unità operativa dipartimentale di Venezia bene però questi letti nonostante sia scritto nella nella organizzazione della rete che debbano essere letti specifici elettivi dedicati io prevesco elettivo che dedicato bene questi vengono in gran parte utilizzati non solo in tempi di 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 covid secondo le necessità del pronto soccorso e qui abbiamo con le autorità ripetutamente fatto capire che se c'è una rete la rete deve potere chi nella periferia della rete rivolgersi alle strutture hub tranquillamente senza problemi di accesso ecco in fine conti per una regione come il Veneto 5 milioni di abitanti 16 posti letto dedicati bene lasciamoli tranquilli che possano svolgere la sua funzione la loro funzione poi i centri ambulatoriali che sono già moltissimi gli ambulatori però in alcune aree tipo quella di Verona e ancora sono scarsamente diffusi e anche qui in questo momento si pone la ancora incompleta distribuzione dei centri prescrittori dei farmaci biologici ora francamente diciamoci la verità vista ormai le nostre conoscenze sui farmaci biologici possono alcuni specialisti ambulatoriali tranquillamente prescrivere questi farmaci senza dover fare tutta la trafila cui sapete sono costretti alcuni pazienti ora immaginate non so se voi conoscete un po' la regione immaginate un paziente di Chioggia deve venire a Venezia o a Mestre per avere il farmaco biologico Chioggia Venezia in tempi normali ci vuole un'ora immaginate l'estate quindi questo per fare un esempio e abbiamo un specialista aromatologo ambulatoriale a Chioggia che è di altissimo profilo poi c'è un punto di cui oggi non ha parlato nessuno e quindi fa capire come spesso alcune istanze alcune urgenze fanno passare in second ordine altre che io dico sono strutturali vi ricordate quando ci hanno detto che quello che sarebbe stato risparmiato con i biosimilari sarebbe dopo stato investito per migliorare migliorare la cura delle malattie aromatiche e il tipo di approccio ai malati stessi possiamo fare tanti esempi uno è per esempio allungare i tempi per la visita perché da noi da noi penso che sia comune in Italia spesso la prima diagnosi si fa in una visita che dura 20 minuti che dal punto di vista umano è estremamente umiliante questo per dirne una ma ci sono tanti motivi ma noi quei soldi che io sappia se qualcuno mi sa dire il contrario ma almeno da noi nel Veneto non sono stati riutilizzati a favore dei pazienti reumatologici ecco io ho finito professore posso una roba sola veloce io volevo sottolineare professore che era uno dei punti che abbiamo raccolto non solo nel Veneto e che è proprio citato nella mia presentazione il risparmio attraverso le terapie similari deve rimanere nell'area che lo ha generato e offrire le migliori cure anche innovative tant'è che in un'ultima riunione di persona a Verona in cui credo ci fosse anche il professor Rossini la professoressa Scroccaro la dottoressa Scroccaro parlava di un risparmio intorno ai 14 milioni di euro l'anno e io chiesi chiesi alla dottoressa Scroccaro se era possibile investire quel come dire un decimo di quei 14 milioni di euro visto e considerato che siamo stati solidali come pazienti di reinvestirli nella reumatologia forse forse qualcosa si sarebbe mosso se ma siccome purtroppo tutto va nel calderone quel risparmio è andato nel calderone Silvia ma avevamo anche un attimo solo scusate Silvia avevamo anche un documento di ricordi quello contenuto fatto anche dove sollecitavamo appunto di reinvestire quel risparmio ma penso che oggi sia anche abbastanza anacronistico parlare di questo con l'emergenza va bene però però l'emergenza non c'è sempre emergenza allora Antonella ciao e la reumatologia si è un po' tratta anche in momenti di non emergenza come no io credo che per esempio la distribuzione la potremmo chiamarla scusate la conquista del territorio deve 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 dobbiamo avere far nascere la figura del reumatologo di famiglia perché le malattie reumatiche sono così diffuse così frequenti dall'artrose all'artrite giovanile che francamente devono essere dappertutto i reumatologi ecco in questo momento gli ambulatori ospedalieri chiudono o sono invitati a chiudere non possono chiudere quelli dei distretti degli specialisti ambulatoriali sul territorio questo non dimentichiamocelo e chi va a fare lo specialista ambulatoriale dopo con contratto non va a fare il dirigente in un ospedale gli va molto bene quel lavoro ecco questo pensiamoci bene grazie professor Puzzi la teoria nel campo dell'oncologia della Toscana quella di creare l'oncologo di territorio lo stanno creando quindi probabilmente potrebbe essere diciamo un'idea nemmeno soltanto per la reumatologia di creare una figura dello specialista del territorio e sicuramente per la reumatologia sì è un'idea eccellente allora veniamo a mancano ancora Paolo e Daniele il professor Fusano e il presidente della SIR io a questo punto chiederei a Fusano di fare l'intervento e lascerei alle pre-conclusioni il professor Sinigaldi e poi un minuto a testa se può funzionare come giro di conclusione sì un giro di conclusioni con delle proposte sappiamo che per esempio le associazioni dei pazienti hanno delle proposte concrete facciamo un giro molto rapido professor Fusano ma parlando del Piemonte noi abbiamo una rete molto ospedalocentrica contrariamente al al Veneto purtroppo anche se stiamo lavorando esattamente per portarci verso una maggior diffusione territoriale e questi ultimi anni devo dire anche di maggior interlocuzione con la regione hanno prodotto parecchie ore territoriali in più e soprattutto in aree scoperte e la nostra rete è composta da una struttura complessa quella che dirigo quattro strutture dipartimentali una struttura semplice otto ambulatoriali la gran parte di quali non massimali sti quindi è un altro aspetto della debolezza della rete territoriale tutti sono prescrittori anche i territoriali nella nostra regione ci siamo dati in collaborazione con i medici di medicina generale un protocollo su condizioni cliniche che indicassero le classi di priorità per cui abbiamo cercato di coprire soprattutto la diagnosi precoce la intercettare diagnosi con effiliti vascoliti e gestire l'acutizia nel senso della riacutizzazione della patologia o degli effetti di atrochi di inserire devo dire che questo protocollo continua a funzionare e recentemente questo protocollo si integra diciamo utilmente con le disposizioni regionali che individuano soltanto le prestazioni in classe U e B come autorizzate in questo periodo la nostra azienda ha la possibilità credo a causa del suo ruolo di riferimento regionale di garantire anche altre attività non procrastinabili non procrastinabili all'interno di percorsi definiti quindi per la nostra specialità possono essere proprio le connettivite i pazienti in terapia biologica quindi non solo le aziende ma certamente io credo che in questo momento assolvere le urgenze sia determinante e certamente la potenza di fuoco dell'aeromatologia diminuirà sta diminuendo e diminuirà anche nella nostra struttura noi siamo parzialmente impegnati nel covid però per una parte continuiamo a mantenere l'attività io credo chi parla per ultimo finisce per rischiare di ripetersi però io di ripetere le cose dette da altri credo che la telemedicina sia molto valida ovviamente su pazienti noti ma di iniziativa cioè non è tanto certamente bisogna rispondere anche a quello ma non è tanto la domanda che può porre il paziente quanto riconoscere pazienti maggiormente sensibili mi riferisco qui a connettiviti vascoliti e ad altre condizioni di fragilità e sistematicamente intervistare questi pazienti e avvicinarli in modo che appunto quel concetto del nessuno si senta escluso non resti indietro sia conservato sia rispettato invece riprendo le parole del professor Rossini sull'importanza del teleconsulto che favorisce lo sviluppo e la diffusione di PDTA light come si dice oggi favorisce l'aderenza perché abbiamo un alleato in più nella gestione del farmaco che è il medico di medicina generale in qualche modo si fa indirettamente formazione perché comunque si parla col medico di medicina generale a tu per tu e con un dialogo tra pari che sicuramente non può che accrescere in tanti ed è un modo in questo periodo per rispettare il 3 to target che è un'altra delle criticità che adesso vediamo e un ultimo ma non ultimo l'adesione ai programmi vaccinali su cui i nostri pazienti hanno dei dubbi in definitiva se devo parlare di analisi o devo parlare di proposte io preferirei parlare di proposte cioè il mantenimento dell'attività urgente deve essere rispettato almeno a seconda delle realtà in alcuni centri almeno per regione la telemedicina sua iniziativa per recuperare anche pazienti che per mille fattori possono essere rimasti indietro il teleconsulto col medico di medicina generale e ovviamente il lavoro in rete all'ospedale territorio e soprattutto agli specialisti in buona grazie grazie mille grazie professor Fusaro allora pre-conclusioni professor Sinigaglia grazie per essersi collegato ha comunque potuto sentire un po' di quanto anche di concreto è stato detto questa mattina sono venuti fuori alcuni spunti anche soprattutto dalla parte clinica ma insomma l'assessore regionale ci ha detto abbiate pazienza per una quindicina di giorni e ripartiremo con l'attività ordinaria ora forse diciamo non siamo così propensi a credere che i tempi saranno questi ma insomma come riusciamo a convincere le istituzioni che dobbiamo continuare a curare le persone croniche a vedere le persone croniche in particolare i malati reumatologici dunque grazie intanto per l'invito spero che mi sentiate mi sentite grazie per l'invito sì ho sentito qualche spunto recente insomma non c'è dubbio che il fatto che vengano prorogate o comunque ritardate o addirittura annullate molte prestazioni sia davvero l'altra faccia di questa pandemia i pazienti reumatici pagano due scopi alla pandemia il primo è quello della possibilità di contagiarsi e voi sapete che abbiamo un registro nazionale di questi pazienti che oggi sono circa 450 in Italia e stiamo monitorando questa situazione l'altra faccia della pandemia invece è il prezzo che i pazienti pagano in termini di prestazioni che non vengono erogate intanto due parole sulla situazione in Lombardia che è come tutti sapete una situazione assai drammatica dal punto di vista epidemiologico devo dire che dal punto di vista di quelli che sono stati i provvedimenti recentemente presi non c'è stata una risposta in città a Milano e in Lombardia come quella che c'era stata a marzo e c'è ancora molta gente che circola per la strada quindi ho seri dubbi sul fatto che questa situazione possa avere a breve una soluzione e non vedo davvero nessuna soluzione neanche in tempi medi per questo tipo di situazione questo significa che naturalmente tutti i presidi specialistici sono sottoposti a grosse pressioni molti reumatologi vengono convertiti in pazienti che vanno a curare situazioni legate al covid e abbandonano il loro ruolo di reumatologi sul territorio negli ospedali devo dire che in Lombardia gli ospedali stanno garantendo ancora all'80% le prestazioni e questo è sicuramente un incommiabile sforzo da parte degli operatori sanitari che hanno raddoppiato i tempi di lavoro e che stanno a lavorare negli ambulatori fino a tarda ora d'altra parte io credo che anche i reumatologi debbano dare un sostegno a questo tipo di situazione e questo sia un problema non soltanto dei reumatologi ma assolutamente trasversale a tutte le specialità che si occupano di pazienti cronici ora io stavo pensando per esempio ad alcuni problemi che esistono dal punto di vista dell'organizzazione reumatologica e mi permetto di dire questa cosa anche perché non credo ancora una volta che vi siano soluzioni a breve penso per esempio al problema dell'erogazione dei farmaci biologici voi sapete che in moltissime regioni i farmaci biologici vengono erogati solamente dagli ospedali e dalle farmacie ospedaliere il che comporta la necessità del paziente di arrivare negli ospedali quindi di entrare e di penetrare oltre una barriera che dovrebbe essere una barriera assolutamente tutelata e comunque di contribuire in questo modo alla attesa davanti alle farmacie ospedaliere e via così perché non pensare in questo momento di portare l'erogazione dei biologici a livello delle farmacie territoriali a livello delle farmacie periferiche in modo che un paziente possa dietro una prescrizione effettiva andare a ritirare il suo farmaco direttamente in farmacia senza venire fino all'ospedale non dimentichiamo che il file F che vige in Lombardia e in molte altre regioni altro non è che un sistema di controllo della spesa e in questo momento di sistemi di controllo della spesa probabilmente la sanità ha meno bisogno che in altri momenti quindi questo è un punto che potrebbe essere sollevato anche dalle associazioni dei pazienti secondo punto è quello che citava Fusaro prima e che probabilmente di cui probabilmente si è parlato prima e cioè quello della telemedicina la telemedicina non è la sostituzione della visita reumatologica questo deve essere un punto assolutamente fermo però noi siamo consapevoli del fatto che molte prestazioni di telemonitoraggio possono essere fatte in remoto e questo è un punto fondamentale perché se noi sgombriamo il campo da queste prestazioni di telemonitoraggio in remoto e riusciamo a farle secondo tutti i canoni attraverso queste piattaforme e una piattaforma è pronta anche per tutti i soci della società italiana di reumatologia se noi riusciamo a fare questo riusciamo probabilmente a concentrarci per il nostro residuo e la nostra residuo attività su prestazioni di prime visite e di urgenze reumatologiche le prime visite sono fondamentali guardate perché perdere tante prime visite significa perdere diagnosi precoci significa quindi ritardare l'intervento terapeutico significa quindi creare disabilità che pagheremo inesorabilmente tra qualche tempo tra qualche mese tra qualche semestre o tra qualche anno questo naturalmente deve essere fatto con molta cautela e con molta circospezione ma la telemedicina secondo me oggi è l'unica soluzione che possa in qualche modo garantire di portare avanti anche le prestazioni che invece della telemedicina non si possono assolutamente giovare come dicevo le urgenze le prime visite e noi dobbiamo ritornare a collaborare con i medici di medicina generale che devono essere in grado di segnalare quali sono le prestazioni urgenti e indifferibili in reumatologia secondo loro perché comunque noi conserveremo una quota di operatori sanitari che saranno dedicati agli ambulatori reumatologici e che devono continuare questo tipo di attività quindi collaborare con i medici di medicina generale cercare di optare per le soluzioni di telemonitoraggio e cercare di avere la possibilità di erogare i biologici nelle farmacie senza costringere più i pazienti a venire in ospedale io credo che questi siano tre provvedimenti fondamentali che dobbiamo cercare di perseguire in questo momento critico mi ricollego al discorso di punzi e degli operatori che parlavano prima per quanto riguarda la diffusione e le reti reumatologiche uno dei miei punti fondamentali quando sono diventato presidente della SIR e purtroppo questa cosa non è così facile da fare in un bienio e non è così facile diffondere questa comunicazione in un bienio era semplicemente questo ma perché non ci deve essere almeno un reumatologo in tutti gli ospedali italiani io direi che questo è un obiettivo che noi dobbiamo perseguire cercare di avere una figura reumatologica qualificata in tutti gli ospedali in grado di fare tutto quello che fanno i centri e cioè di prescrivere biologici di erogare biologici di monitorare i biologici e di fare prime diagnosi questo è il disegno fondamentale che la reumatologia deve cercare di perseguire avere almeno un reumatologo in ogni ospedale perché della figura del reumatologo per la frequenza di questo tipo di patologie c'è assoluta necessità in tutto il contesto sanitario nazionale ringrazio grazie mille professore allora lascerei a Daniele e Paolo le altre preconclusioni prima dell'ultimo giro di tavolo Daniele sì sì facciamo un giro rapido di proposte operative quindi reumatologo del territorio ma innanzitutto reumatologo in ogni ospedale giustamente il richiamo del presidente della SIR è giustissimo quindi più ambulatori su questo convergono sia il professor Sinigallia che il professor Punzi che ha lanciato per primo questo messaggio è importante quello che ha detto il professor Sinigallia sulla erogazione dei farmaci anche fuori dagli ospedali per moltiplicare ecco le possibilità di cure ma è importanza quello che è stato detto sul riutilizzo delle risorse che provengono dai biosiminali per migliorare l'aderenza beh l'aderenza naturalmente a questo punto può essere migliorata anche con farmaci che favoriscono la stessa aderenza anche l'erogazione dei farmaci fuori dagli ospedali per significa però passare da terapie iniettive a terapie di più facile somministrazione vogliamo invertire ora l'ordine dare le parole la parola alle due associazioni dei pazienti e poi sentire gli specialisti quindi Antonella Celano proposte operative sì beh una proposta operativa ovviamente può essere quella di creare un corridoio preferenziale per i pazienti per i pazienti cronici nel nostro caso per i pazienti reumatologici creiamo un corridoio creiamo delle zone delle safe zone delle zone che diano la possibilità alle persone di accedere agli ambulatori in tutta tranquillità così evitiamo anche che a livello psicologico l'ansia la faccia da padrone quindi impedisca alle persone di andare negli ambulatori quindi creiamo questi corridoi per poter continuare a fare diagnosi precoci per continuare a fare follow up per poter continuare ad agire sull'aderenza terapeutica sicuramente concordo con quanto detto dal professor Sinigaglia assolutamente concordo su tutto e quindi per la distribuzione nelle farmacie di prossimità la nostra associazione già se ne sta occupando abbiamo una partnership con FederParma dove stiamo lavorando sulle giornate informative per le patologie reumatologiche con un corso FAD destinato a tutti i farmacisti d'Italia quindi questa è una proposta in maniera molto veloce volevo però fare ancora il punto su un ultimo argomento di cui non abbiamo parlato il supporto psicologico le persone sono oggi l'ansia la paura e sta portando le persone anche a mettere in discussione tutta quella che è la loro situazione la loro cronicità la loro patologia cronica quindi non sottovalutiamo anche il supporto psicologico volevo solo ricordare a tutti gli altri che sono le 13.26 e se ci manteniamo nel minuto a testa in una decina di minuti arriviamo a delle conclusioni io Paolo darei la parola a Silvia Tonolo dell'altra associazione e poi darei a te la possibilità di introdurre l'ultimo giro di tavolo dei clinici Silvia Tonolo io credo di sposare la tesi sia sul discorso della distribuzione dei farmaci attraverso le farmacie territoriali proprio per evitare incroci pericolosi primo secondo di tranquillizzare i pazienti sul discorso delle visite e che quindi in qualche modo riusciremo a trovare una soluzione magari anche attraverso il sostegno delle istituzioni perché io ho visto muoversi qualcosa anche a livello della regione Piemonte cioè di qualche consigliere che sottolinea che non esiste solo il covid e quindi di dare come dire anche una priorità ai pazienti magari in acuzia di avere una linea preferenziale ma soprattutto quello che ha detto il professor Sinigallia sulla telemedicina perché la piattaforma della SIR è una piattaforma importante per noi per rendere in qualche modo i reumatologi che possano condividere il paziente ma soprattutto noi come associazione nazionale abbiamo questo strumento che dovrebbe riuscire a mettere in comunicazione il medico di medicina generale con la piattaforma SIR e non solo anche con altre piattaforme quindi parlo della società di italiani di pediatria piuttosto che i gastroenterologi e dermatologi quindi nell'eventualità di comorbidità o di pediatria e dare la possibilità anche aiutando e sostenendo informando i pazienti che questa piattaforma può essere condivisa con per esempio i medici di medicina generale che piano piano possono essere anche formati per le nostre malattie quindi io spero che anche questo progetto che stiamo portando avanti come ANMAR possa come dire avere uno spiraglio perché sicuramente la telemedicina che non sostituisce il rapporto medico paziente ma aiuta sicuramente in questi periodi di urgenza e che in cui noi purtroppo dobbiamo trovare soluzioni per agevolare i nostri malattie grazie Silvia Paolo a te sì ecco allora gli spunti che abbiamo avuto sono stati tantissimi io penso che farebbe piacere a tutti capire l'importanza di una rete reumatologica e di una cabina di regia che la gestisca quello che ha fatto vedere il professor Punzi secondo me è stato molto interessante la rete ospedalocentrica piuttosto che la rete che diciamo più moderna che va verso il territorio perché in quel caso quello che sta succedendo oggi con Covid dimostra che comunque l'assistenza ci può essere comunque e per cui vi chiederei un intervento su questo e poi sull'aspetto che forse non abbiamo molto trattato molto velocemente innovazione PDTA ci sono già dei percorsi creati? Beh lascerei ripartirei da Maurizio Rossini Sì sarò sintetico per spazio anche gli altri ma io credo di poter riassumere le proposte operative in tre in tre tematiche la prima è una richiesta di maggior riconoscimento delle patologie reumatiche meglio reumatologiche anzi meglio ancora del paziente con malattie reumatologiche garantendo l'assistenza ospedaliera e quella e quella ambulatoriale in presenza abbiamo capito tutti specialmente di prime diagnosi prime visite e di casi complessi perché non c'è dubbio che la telemedicina non è non può essere completamente sostitutiva per questo penserei a un manifesto sociale con una sorta di coalizione tra società scientifiche e associazioni ai pazienti due sicuramente la risposta il potenziamento della telemedicina e tra i vari strumenti in particolare del teleconsulto con i medici in cina generale vorrei aggiungere anche tra specialisti perché spesso il paziente reumatologico ha comorbidità e come il terzo punto è chiaramente la necessità di un potenziamento della rete e soprattutto di quella territoriale sia nei confronti del medicino in cina generale che degli specialisti territoriali io vorrei ricordare che c'è un'indicazione specifica del ministero salute e delle risorse si spera legate a questo di un investimento sul territorio tra cui anche nelle forme l'infermiere del territorio e sicuramente anche la distribuzione e la somministrazione aggiungerei di farmaci a livello territoriale grazie Anna Maria Iagnocco poi alla fine chiederei le conclusioni definitive a Giuseppe Turchetti allora Anna Maria Iagnocco io molte cose sono già state dette secondo me il fondamentale è l'aspetto della diagnosi precoce e della garanzia di un alto livello di cura per i malati con malattie croniche e quindi anche ovviamente l'artrite romatologica che devono essere mantenute quindi coloro che sono già in una fase di follow up diagnosticati devono avere la possibilità di un alto livello di cura che deve essere proseguito perché io non credo ai 15-20 giorni di risoluzione come è stato citato prima da qualcuno si tratta di una situazione grave che andrà avanti ancora per molti mesi e quindi non possiamo continuare a non garantire o non riprendere la cura adeguata per questi pazienti che in molte circostanze non sono stati richiamati dopo il primo lockdown ovviamente il problema delle comorbidità tra i presenti perché noi abbiamo oggi la difficoltà a far valutare i pazienti ai nostri colleghi quando sono presenti comorbidità perché ovviamente ognuno è preso dalle proprie emergenze urgenze dal covid e da tutte le altre problematiche quindi bisogna anche un pochino ottimizzare la rete in questa fase visto che ripeto non sarà una cosa che si risolverà in 15 giorni o in un mese dobbiamo capire come ottimizzare anche l'approccio multidisciplinare che oggi è estremamente difficile grazie mille Alberto Cauli grazie e accendo l'audio sì le priorità è quella di superare quanto prima questa emergenza e poter tornare una quasi normalità per poter riprendere il percorso originario chiaramente la diagnosi precoce un'assistenza frequente in modo da poter mettere in pratica realmente il terzo target e non soltanto a parole o nelle nostre diapositive nei congressi quindi un aumentare anche il potere politico dei malati reumatici ecco sono tanti hanno malattie complesse importanti però mediaticamente contiamo meno di tante altre discipline io mi rendo conto che quando un qualcosa viene chiesto dall'oncologo viene accontentato facilmente perché il malato oncologico non si tocca alcune discipline storicamente hanno più ascolto io non riesco a capirlo questo perché malattie normali ci sono tante malattie complesse ecco dobbiamo riuscire ad avere un grip maggiore sui decisori politici perché rappresentiamo una disciplina che come è stato detto all'inizio di questo incontro rappresenta una percentuale importante dei malati che poi andano in conto a disabilità ma comunque dei malati che hanno una qualità di vita rovinata le patologie reumatologiche quindi dobbiamo farci sentire per ottenere ciò che spetta ai malati reumatici perché loro pagano le tasse e quindi hanno diritto a un'assistenza che sulla carta nel nostro sistema sanitario nazionale è codificato molto bene perché tutto ciò che è scritto è condivisibile bisogna applicarlo bene e in tutte le regioni grazie mille Ada Corrado niente io avrei voluto dire esattamente le stesse cose che ha detto il professor Cauli io credo che questa emergenza abbia fatto emergere in maniera drammatica una serie di problematiche che in realtà c'erano anche prima e che probabilmente sono dovute anche in parte al fatto che tradizionalmente l'aeromatologia è stata considerata sempre una disciplina di serie B diciamo non ha la stessa attrattiva politica di altre discipline per cui diciamo che con il Covid si è evidenziata in maniera veramente drammatica questa questa problematica la cosa che è emersa ma che emerge quasi sempre in tutte queste riunioni e che soprattutto che c'è stata una mancata riforma dei servizi territoriali dei servizi territoriali che è una cosa che era persistente al Covid che è una cosa che era persistente al Covid e quindi sicuramente uno degli aspetti che va potenziato è proprio il territorio senza una rete territoriale opportunamente integrata con gli ospedali il problema non si risolve Leonardo Punzi diciamo che senza una rete integrata con gli ospedali non risolviamo nemmeno il problema Covid o di altre eventuali epidemie o pandemie che ci arriveranno quindi diciamo che il Veneto ha retto meglio la prima ondata e sta reggendo bene la seconda grazie proprio alla propria organizzazione ma io penso di sì anche se devo sottolineare integrato con il territorio quello che ho già detto prima che quei pochi letti disponibili elettivi per la reumatologia dei centri hub non si devono toccare questo è il punto fondamentale perché sul territorio lo specialista è rassicurato dal sapere che no Antonello scusa stavo intervenendo nel webinar no no va bene anche l'uomo che può fare eventualmente un ricovero d'urgenza se è disponibile la possibilità nei centri hub ecco questo è secondo me mi sentite? ovviamente quindi questo è un fatto l'altra cosa è la proposta molto condivisibile del del professor Sinigalli a proposito delle farmacie del ritirare i farmaci biologici nelle farmacie territoriali si fa già in Francia quindi non è così difficile però attenzione non è che dobbiamo avere la farmacia territoriale e lo specialista a 150 km quindi secondo me le due cose devono abbastanza essere devono conciliarsi bisogna avere veramente tanti specialisti sul territorio però con dei centri che sono integrati con la loro attività grazie mille professor Punzi Enrico Fusaro condivide quanto detto dai suoi colleghi mette il microfono scusate condivido in Piemonte c'è l'esperienza abbiamo l'esperienza della distribuzione territoriale e devo dire ha molti vantaggi e credo che sia un percorso virtuoso che noi abbiamo quasi da sempre e che non può che avvicinare il cittadino al suo territorio alla sua ASA per quanto riguarda le proposte l'ultimo flash io credo che dobbiamo lavorare sulla domanda per le classi U e B e cercare di preservare comunque uno spazio conservare uno spazio ambulatoriale per le U e per le B e per i pazienti che stanno all'interno di percorsi definiti e formalizzati come possono essere i pazienti in terapia biologica o con piccole molecole e invece destinare la telemedicina alla medicina su iniziativa quindi non rispondere a non necessariamente rispondere solo alla domanda dei pazienti ma proporsi ai pazienti e ai medici di medicina generale attraverso il teleconsulto il modello c'è il cronica è un model che insomma è diffuso in tutto il mondo e potrebbe anche non essere più teoria nella nostra branca grazie mille Enrico Fusaro allora Giuseppe Turchetti gli spunti sono stati tanti alcuni davvero utili e molto concreti che altro aggiungiamo in conclusione metti il microfono è messo posso Giulia e Giuseppe una sola parola è molto interessante quello che è stato detto il professor Rossini diceva manifesto sociale lanciare un grido di questo tipo Giulia mondo sanità pensiamo a un numero dedicato della nostra rivista che va a 1500 persone istituzionali da dedicare tutto alla reumatologia e ai problemi di cui oggi abbiamo parlato è una rivista nata apposta per questo fare cultura e dare conoscenza alle istituzioni veramente super ragione Paolo ed è gravissimo che non ci abbia pensato io che sarei il direttore grazie Paolo grazie mille Daniele vuoi aggiungere qualcosa prima delle conclusioni del professor Turchetti no no mi sembra che la sintesi sia questa più territorio più telemedicina più percorsi dedicati e sicuri per avere più diagnosi precoce ma è importante quello che ha detto Cauli più informazione per contare di più perfetto grazie Daniele si vede che sei un giornalista televisivo Giuseppe Turchetti conclusioni anche io tre pillole che mi sembra possano un po' riassumere molti degli spunti che sono arrivati questa mattina la prima è che l'organizzazione conta questo può sembrare strano diciamo ma ce ne accorgiamo solo quando il momento è tragico quando siamo in periodo di crisi che avere un'organizzazione ben pensata un'organizzazione strutturata poi ovviamente porta i suoi benefici soprattutto quando il sistema è sotto stress quindi ragionare di più investire di più in analisi organizzative sia all'interno della struttura che nel rapporto fra ospedale e territorio il secondo è gli investimenti che sono necessari ne ricordo due il primo in tecnologia come è stato detto e questo appunto è importante soprattutto appunto nei momenti di difficoltà il secondo è in termini di personale non solo per gestire il carico attuale ma soprattutto per essere pronte a gestire quello successivo altrimenti di nuovo quando sarà finita questa emergenza ci ritroveremo a rincorrere per l'ennesima volta e quindi la terza pillola che mi sembra quella più importante di tutte e quindi anche molto coerente con lo spunto che lanciava lanciava Paolo adesso e prima il professor Siligaglia capacità programmatoria su questo appunto andando a supplire un po' questa che è una classica mancanza del nostro paese magari con il concerto e con il contributo di più soggetti possiamo come dire stimolare le nostre amministrazioni regionali e le amministrazioni nazionali ad avere un approccio con una prospettiva di medio periodo quantomeno senza pensare a lungo altrimenti rincorriamo sempre le emergenze in Italia siamo bravi a gestire il momento dell'emergenza poi c'è il post emergenza e questo appunto dovremmo andare a programmare in anticipo male viene da dire che siamo bravi a gestire l'emergenza visto che ci organizziamo così poco altrimenti sarebbe davvero un bel guaio è tremendo quello si fa sulle spalle diciamo degli operatori e poi dei pazienti che appunto ne subiscono le conseguenze principali ma poi c'è il dopo ecco è certo e poi non impariamo neanche la lezione perché tra la prima ondata e la seconda non è che ci siamo poi così tanto organizzati per la maggioranza delle regioni in alcune sì allora io vi ringrazio davvero per essere rimasti con noi fino alle 13 e 44 siamo ancora in 63 su zoom quindi davvero affezionati e siamo ancora oltre 350 su facebook quindi grazie a tutti coloro che sono arrivati fin qua manderemo il documento per la vostra visione poi lo manderemo alle commissioni sanità della camera e del senato grazie a tutti e buon pranzo grazie arrivederci a tutti grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti